Ringrazio, speriamo anticipatamente per la disponibilità, per la collaborazione a voler partecipare a questo importante incontro organizzato appunto da Federparchi in collaborazione appunto con Ispra, con appunto il Mase, il Ministero appunto dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ovviamente è un ciclo di incontri che ha riguardato e riguarda diversi aspetti che interessano appunto la direttiva quadro sulla strategia marina, il cui primo incontro si è già svolto il 25 ottobre e a fine di questo ulteriore incontro che svolgeremo stamattina, vi daremo anche la data del successivo incontro con gli argomenti che andremo a affrontare ovviamente sempre all'interno di questo quadro molto importante. Vi presento coloro che interverranno questa mattina ringraziandoli ancora una volta per la disponibilità, avremo il dottore Cionti Marco in rappresentanza appunto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, era previsto un intervento del dottore Gian Greco Roberto ma ecco diciamo il dottore Cionti farà un intervento appunto per conto del Ministero e incentrerà il suo intervento sugli obiettivi del descrittore 2 appunto della direttiva quadro sulla strategia marina e introdurrà lui appunto i lavori. Poi avremo un intervento del dottore Luca Castriota, primo ricercatore Ispra, che ci parlerà di un programma di monitoraggio per il rilevamento di specie non indigene e una sintesi sui risultati del secondo ciclo di monitoraggio. Successivamente un intervento della dottoressa Silvia Livi, ricercatrice Ispra, che ci farà un intervento in medito alla presentazione del protocollo di metabarcoding del DNA ambientale per il rilevamento di specie non indigene e l'analisi della biodiversità. Infine un ultimo intervento della dottoressa Falutano Manuela, ricercatrice Ispra, che ci parlerà della Citizen Science e il ruolo delle aree marine protette nel rilevamento delle specie aliene. Ricordo a coloro che ci seguono che a fine di ogni intervento, anche e soprattutto tramite la nostra chat, potranno fare delle domande, magari chiedere dei chiarimenti e diciamo che fra un intervento e l'altro sarà dato spazio appunto a eventuali domande, chiarimenti o dubbi proprio per focalizzare alcuni aspetti importanti sui temi che verranno affrontati stamattina e noi fondamentalmente dedicheremo quest'incontro al descrittore 2, le specie non indigene e il ruolo della Citizen Science. Un incontro importante che vuole focalizzare l'attenzione appunto come dicevamo in premessa sulla direttiva quadro della strategia marina che come sappiamo tutti è una direttiva quadro approvata il 17 giugno del 2008 dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea su cui poi appunto è stata emanata la direttiva quadro del 2008-56 sulla strategia per l'ambiente marino successivamente è recepita in Italia col decreto legislativo 190 del 13 ottobre 2010. Quindi una breve premessa di carattere normativo per inquadrare alcuni aspetti che ovviamente interessano il focus che andremo ad attenzionare stamattina. Ringraziandovi ancora una volta per la vostra importante disponibilità e collaborazione io passo subito la parola al dottore appunto Gian Greco Roberto che è rappresentato in questo caso scusate da dottore Marco Cionti che farà appunto l'introduzione e gli cedo la parola. Grazie dottor Mastriani, buongiorno a tutti. Io come insomma già detto sostituirò il dottor Roberto Gian Greco che è il coordinatore della nostra divisione 7 della direzione generale tutela della biodiversità del mare che si occupa appunto anche di strategia marina. Condivido lo schermo, condividerei lo schermo, ditemi se vedete la presentazione. Perfetto. Quindi oggi ovviamente parliamo del descrittore 2 della strategia marina ovvero le specie non indigene. Ovviamente lato ministero io farò un po' una presentazione generale sul descrittore 2 e anche un po' quella che è la cornice normativa sulle specie non indigene e poi diciamo per gli aspetti più tecnici e anche specifici l'ISPRA appunto nello specifico. Intanto in questa prima slide potete vedere che insomma ho inserito quelle che sono alcune delle specie aliene più famose che hanno invaso i nostri mari negli ultimi anni, il granchio blu, il pesce scorpione, il pesce pallamaculato e la caulerpa taxifolia, la cosiddetta alga killer. e innanzitutto per cominciare possiamo un attimo spiegare chi sono e che cosa sono queste specie non indigene. Diciamo le specie non indigene possono essere anche chiamate specie aliene, all'octone o esotiche, sono tutti sinonimi per indicare le specie non indigene e comprendono tutti quegli organismi viventi rinvenuti di fuori dell'ora reale nativo di distribuzione e l'espansione naturale possibile, la cui introduzione è legata volontariamente o involontariamente all'azione dell'uomo. Quindi la causa poi dell'espansione di queste specie aliene è antropica. Ci sono diverse attività che possono causare l'espansione di queste specie non indigene. A sinistra possiamo vedere le principali attività antropiche, ad esempio il traffico navale, quindi le acque di zavorra, l'immagine al centro rappresenta il biofooling, l'acquacoltura, perché gli impianti d'acquacoltura spesso utilizzano specie all'octone per l'allevamento e anche spesso nei trasferimenti di lotti possono essere involontariamente trasportati anche organismi associati agli organismi principali di allevamento. I scavi di canali, ad esempio insomma è famoso a tutti il canale di Suez e la costruzione del canale di Suez e la conseguente poi migrazione l'espziana dal Mar Rosso al Mar Mediterraneo. E l'acquariologia perché anche gli acquari possono essere una fonte di diffusione di specie aliene, ad esempio la caulerpa, taxifolia, l'alga killer, probabilmente si è diffusa a partire da un acquario a Monaco. Perché sono un problema a queste specie aliene. Intanto possiamo dire che non tutte le specie aliene sono poi anche invasive, per fortuna. Solo alcune arrivano ad essere invasive e questo significa che nel nuovo ambiente in cui sono inserite riescono ad attecchire, ad insediarsi molto bene, a riprodursi in maniera esponenziale e arrivando quindi a causare danni. A destra possiamo vedere quelli che sono i principali impatti causati da queste specie aliene, quindi impatti ambientali. Un esempio può essere sempre l'alga killer che entra in competizione con la Posidonia oceanica e può arrivare anche a soffocare alcune praterie di Posidonia. Impatti economici, basti pensare appunto al granchio blu e gli impatti sulla molluscicoltura. Impatti sanitari, anche perché molte specie aliene innanzitutto possono essere vettori di patogeni e alcune specie, come ad esempio il pesce scorpione, può causare punture che possono mandare addirittura necrosi dei tessuti o il pesce pallamaculato che è altamente velenoso e anche seccotto. Qui vediamo quelle che sono le principali cause che nel precedente slide abbiamo già visto. Qui vediamo meglio il biofooling che rappresenta un'incrostazione dello scafo delle navi, quindi organismi incrostanti che riescono ad attecchire sullo scafo delle navi. Oppure il traffico navale. Purtroppo il mar Mediterraneo è tra i mari più trafficati del mondo. Le acque di Zavorra servono alle navi per la stabilità durante la navigazione, quindi la nave incamera queste acque dal punto di partenza, dal porto di partenza, per poi rilasciarle quando arriva a destinazione, quindi al porto di destinazione. Ovviamente però quando vengono rilasciate queste acque possono essere rilasciati anche organismi o larve che sono state prese insieme all'acqua nel porto di ripartenza. Questo ad esempio è il caso del granchio blu, di larve di granchio blu. Ora facciamo un attimino anche un quadro di quella che è la normativa di riferimento sulle specie aliene. Innanzitutto possiamo parlare della Ballast Water Management Convention, adottata proprio per la gestione e il controllo delle acque di Zavorra e dei sedimenti. Il regolamento 708-2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti e successive modifiche. Questo regolamento lo vedremo dopo anche nei target del descrittore 2 della strategia marina. Quando si parla di acquacoltura la principale competenza è poi del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, perché comunque stiamo parlando di attività produttive. Poi ovviamente c'è anche da considerare l'aspetto ambientale. Poi il regolamento 1143 del 2014, regante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Questo è stato poi recepito in Italia con il decreto legislativo 230 del 2017 e rappresenta un po' la normativa di riferimento anche per le specie aliene terrestri, non solo marine. Infine la direttiva 2008-56 che è quella proprio sulla strategia per l'ambiente marino che approfondiremo in questa presentazione oggi. Qui un piccolo riassunto su che cos'è la strategia per l'ambiente marino. La strategia per l'ambiente marino ha degli elementi principali che sono quelli che vedete da sinistra, ovvero l'approccio ecosistemico, quindi un approccio che cerca di prendere in considerazione tutte le componenti di un ecosistema, anche quella antropica e quindi non si basa, cerca di non basarsi come spesso si feceva in passato magari su un approccio specie specifico e ha una gestione adattativa con fase ciclica di sei anni sessennale. Questo anche è molto importante perché rende la strategia una strategia dinamica e quindi con il tempo si aggiorna con nuove misure, nuovi obiettivi. La strategia è fatta e formata da 11 descrittori che potete vedere in basso a sinistra per la valutazione del GES, del Good Environmental Status. Ovviamente i descrittori sono tanti, cercano di prendere in considerazione un po' tutto l'ambiente marino, partendo dal primo sulla biodiversità, al secondo specie non indigene, che approfondiremo ora, la pesca, le reti trofiche, l'eutrofizzazione e così via. A destra potete vedere un po' quelle che sono le fasi della strategia marina. La strategia marina inizia con una valutazione e una definizione di quelli che sono i GES, quindi il Good Environmental Status e i traguardi ambientali associati, quindi ogni descrittore avrà dei GES e dei traguardi ambientali associati. Poi ci sono i programmi di monitoraggio che servono per raccogliere i dati fondamentali per poi poter capire a che punto siamo nel raggiungimento dei GES e dei traguardi ambientali. I programmi di misure che rappresentano proprio quelle misure messe in campo a livello nazionale per cercare di raggiungere i GES e i target nel caso in cui questi ultimi non fossero raggiunti. Tutte queste fasi insieme compongono proprio tutta la strategia marina e ognuna di queste fasi ha una revisione sessennale, quindi ogni sei anni c'è una valutazione e un aggiornamento di queste fasi. Il Ministero è l'autorità competente, il Ministero dell'Ambiente, per l'implementazione della strategia e si avvale di un comitato tecnico costituito da rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali, provinciali, comunali e del supporto tecnico dell'ISPRA. Qui vediamo un po' quelli che sono il ciclo attuativo della strategia e ultimamente, proprio adesso nel 2024 si è chiuso il ciclo per la valutazione dei GES e target e l'aggiornamento anche dei GES e dei target associati. Quindi è in corso il decreto ministeriale che proprio metterà la nuova definizione, definirà i nuovi GES e i nuovi target per gli undici descrittori. Tra l'altro poco tempo fa si è svolta una riunione a livello di Commissione Europea in cui per fortuna l'Italia è stato uno dei paesi che è riuscito a concludere tutta la valutazione e l'aggiornamento dei GES e target per gli undici descrittori ed ha notificato alla Commissione Europea sia la valutazione che l'aggiornamento inviando il report in tempo. Per fortuna l'Italia è stata uno, mi sembra solo tre paesi europei siano riusciti a mantenere questa scadenza, insomma inviare il report mantenendo nei tempi previsti e in Italia, credo Germania e Svezia. Quindi siamo stati insieme ai paesi nord europei gli unici a riuscire a rispettare questa scadenza. Poi ci sono i programmi di monitoraggio e che servono appunto a raccogliere tutti i dati e l'ultimo l'ultimo ciclo è quello 2021-2026 quindi nel 2026 ci sarà l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio e i programmi di misure che invece hanno il ciclo che va dal 2022 con l'ultimo decreto nel Presidente del Consiglio dei Ministri e fino al 2027 in cui ci sarà l'aggiornamento. Ora andiamo un po' più nello specifico, nel Descrittore 2, a parlare del Descrittore 2 e dei GS e Target, poi vedremo anche programmi di monitoraggio e programmi di misure. Poi i colleghi dell'ISPRA faranno un approfondimento sui programmi di monitoraggio, andranno più sull'aspetto tecnico. Il Descrittore 2 prevede che le specie non indigene introdotte dalle attività umane restino a livelli che non alterino negativamente gli ecosistemi e il GESS, quindi il buono stato ambientale, è così definito. è ridotto il numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione. Questi GESS a livello europeo sono guidati da una decisione della Commissione Europea, la 848 del 2017, e i principali vettori di introduzione per le specialiene sono i porti e gli impianti di acquacoltura. A destra possiamo vedere i target, i ragguardi ambientali associati al GESS. Il target 2.1, entro il 2020 tutti i porti e terminali di categoria 2 classe 1 sono dotati di un sistema Early Warning per la tempestiva rilevazione della presenza di specie non indigene invasive e la segnalazione di allarme alle autorità competenti. Come vedete dalla slide risulta essere raggiunto, questo obiettivo nell'ultimo ciclo risulta essere stato raggiunto, quindi tutti i porti sono allertati e nel caso di rilevazione di una presenza aliena, di una insomma devono, non possono, devono segnalare alle autorità competenti. I porti di categoria 2 classe 1 rappresentano quei porti di rilevanza economica internazionale. Il target 2.2 sono implementati i sistemi di tracciabilità di tutte le importazioni, traslocazioni e spostamenti di specie non indigene in impianti di acquacoltura, come previsto dal regolamento 708-2007. Questo è il regolamento che abbiamo visto nella slide precedente sul quadro normativo e anche questo target risulta essere stato raggiunto. Come vi dicevo, l'autorità competente in questo caso è il MASAF che ha recepito questo regolamento a livello nazionale ed è stato quindi anche istituito un registro che raccoglie tutti i dati sulla movimentazione, quindi importazioni, traslocazioni e spostamenti delle specie aliene in impianti di acquacoltura. Il target 2.3 sono attivati sistemi di risposta da parte dell'autorità competenti in seguito a segnalazioni di specie invasive in aree portuali e in zone destinate all'acquacoltura. Questo vedremo nelle slide successive quello che si sta facendo a riguardo. Il target 2.4 sono ridotte le lacune conoscitive in merito alle principali vie di introduzione e vettori. Ora faccio proprio una breve descrizione dei piani di monitoraggio e poi l'ISPRA andrà nel dettaglio. I piani di monitoraggio prendono in considerazione due parametri. La presenza che è utilizzata ai fini della valutazione del GES e ovviamente anche per il raggiungimento del traguardo ambientale per ridurre le lacune conoscitive e l'abbondanza che servirà anche per i sistemi di risposta da parte dell'autorità competenti a seguito di segnalazioni. I monitoraggi vengono svolti nelle aree che sono quelle a maggiore rischio di introduzione, che come abbiamo detto sono i porti e gli impianti di acquacoltura. Le schede metodologiche dei programmi di monitoraggio, quindi i programmi di monitoraggio hanno delle schede metodologiche, prevedono campionamenti per diverse componenti, per il fitoplancton, con bottiglie Niskin o con retino, con mesozooplankton, con il retino, macrozooplankton, visual census, quindi con avvistamenti, il bentos, quindi per i fondi duri attraverso grattaggio, fondi molli, la benna e per l'epimega bentos, le vaggile, le nasse. Sono state inoltre attivate alcune attività a pilota relativamente all'utilizzo di pannelli in PVC per monitorare la componente macroalgale di invertebrati e le analisi del DNA ambientale in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Questi monitoraggi vengono effettuati dall'ISPRA, che poi appunto ci spiegherà più in dettaglio, e dalle ARPA attraverso degli accordi che vengono fatti proprio tra Ministero dell'Ambiente, ISPRA e ARPA, per coprire poi tutto il territorio. Ora parliamo anche dei programmi di misure. Le ultime misure appunto sono state istituite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2022. Abbiamo principalmente quattro misure che riguardano il descrittore 2, le specie aliene. La misura 4 riguarda l'individuazione di specie non indigene commestibili, per le quale, previa valutazione sanitaria, può essere proposto l'inserimento al fine della commercializzazione nelle liste del regolamento 1379 del 2013, con l'intento di contrastarne la diffusione. Un esempio di implementazione della misura 4 è proprio il granchio blu, che è stato poi inserito dal MASAF nelle liste del regolamento 1379 per la commercializzazione. Poi c'è la misura 5, che era già prevista nel vecchio programma di misure, che prevede l'istituzione di un National Focal Point nazionale per l'attuazione del sistema Early Warning. Quindi l'individuazione di un albo, di una lista di esperti tassonomi deputati alla validazione della segnalazione di specie acquatiche aliene e pericolose, con proposta di eventuali misure di contenimento e mitigazione da adottare. Nelle slide successive faremo un piccolo focus anche sulla National Focal Point nazionale. La misura 6, invece, è sulla molluscicoltura, perché è considerata un'importante via di introduzione anche involontaria di specie aliene, anche secondo la classificazione adottata dal GRC della Commissione Europea. Questa misura si propone di rendere tracciabili e disponibili i dati relativi a tutte le movimentazioni dei lotti di molluschi in bivalvi, sia che siano importati da altri paesi, sia che siano trasferimenti di lotti da un impianto all'altro in ambito nazionale. Non si sovrappone al Regolamento 708 del 2007, in quanto alcune specie sono esonerate da le disposizioni di questo regolamento, quindi va a integrare un po' il Regolamento 708 del 2007. La misura 7, invece, riguarda l'adozione di linee guida per il controllo e la gestione del biofooling di imbarcazioni, per minimizzare il trasferimento di specie acquatiche invasive sulla base del documento AIMO, la risoluzione del 2011. In realtà, poi, questa risoluzione è via di aggiornamento, quindi si sta aspettando un po' l'aggiornamento di questa risoluzione per poi adottare, di conseguenza, anche le linee guida nazionali. L'AIMO sarebbe l'organizzazione internazionale marittima. Ora finiamo questa presentazione con un po' un focus sulla misura che riguarda il National Focal Point. Che cos'è il National Focal Point? Il National Focal Point è un organo tecnico amministrativo che servirà come supporto al Ministero dell'Ambiente, che è l'autorità competente poi per il coordinamento di tutte le attività legate alla strategia marina, ed è volto a garantire un'effettiva attuazione del sistema Early Warning, in caso di rilevazione di specie aliene nei nostri mari. Quindi a destra potete vedere un po' come dovrebbe funzionare questo National Focal Point e anche l'importanza della segreteria tecnica che vedremo nella prossima slide, perché ovviamente potranno pervenire segnalazioni sia dai monitoraggi fatti dalle ARPA o dall'ISPA stessa o segnalazioni da sorveglianza, ma anche da cittadini. Queste segnalazioni quindi arriveranno alla segreteria tecnica del National Focal Point, che ovviamente prima dovrà effettuare una validazione della segnalazione, anche attraverso un panel di esperti, come dicevamo prima, di tassonomi, e poi capire se sia una specie nota o non nota e anche arrivare poi ovviamente a una risposta, quindi a mettere in atto nel tempo più veloce possibile una risposta. Quindi avrà una funzione operativa, il National Focal Point per una risposta veloce, una funzione istituzionale per un efficace procedimento decisionale e una componente tecnico-scientifica e di ricerca, che è quella proprio della segreteria tecnica. Il National Focal Point sarà composto da rappresentanti delle direzioni, dipartimenti o aree delle amministrazioni centrali e enti pubblici competenti per materia. Quindi sarà fondamentale nel National Focal Point quella che è anche la segreteria tecnica, perché ovviamente ci vogliono poi le competenze tecniche specialistiche rispetto alle rilevazioni per capire intanto se validare o no la segnalazione e anche le azioni poi da mettere in campo. Quindi la segreteria tecnica del National Focal Point sarà la struttura di supporto tecnico-scientifico in grado di ricevere comunicazioni H24 ed interagire con la centrale operativa del corpo delle capitanerie di porto. Sarà costituita presso l'ISPRA, che oltre ad essere l'organo tecnico-scientifico di riferimento del Ministero e anche centro di competenza del Dipartimento per la protezione civile e struttura operativa del Servizio Nazionale per la protezione civile. Quindi sarà fondamentale per il National Focal Point la segreteria tecnica che si avvarrà anche di un panel di esperti che avrà il compito proprio di, come abbiamo detto, seguire la validazione dei dati e nell'ambito di monitoraggio e riconoscimento di specie aliene e pericolose segnalate. I componenti del panel di esperti saranno individuati poi all'interno di enti o istituti pubblici della ricerca e del mondo dell'università e verranno designati nella prima riunione utile del National Focal Point con voto a maggioranza sulla base di manifestazioni di interesse e dei curriculum poi pervenuti previo avviso da pubblicarsi sul sito web del Ministero dell'Ambiente. Quindi il Ministero ha avviato poi il percorso di attuazione di questa misura attraverso varie riunioni di coordinamento e interlocuzioni con gli enti coinvolti e speriamo nel più breve tempo possibile di poter portare a Dama questa misura. Io avrei terminato, quindi lascerei la parola ai colleghi dell'ISPRA e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottore Marco Cionti per questa introduzione molto interessante ed esaustiva. Non ci sono domande pervenute, quindi possiamo procedere ovviamente se nel corso del webinar dovessero sorgere, ma anche successivamente delle domande o dei quesiti è sempre possibile chiaramente poterle avanzare. Passiamo dopo l'introduzione al primo intervento del dottore Luca Castriota, primo ricercatore ISPRA sul programma di monitoraggio per il rilevamento di specie non indigene e una sintesi dei risultati del secondo ciclo di monitoraggio. Cedo la parola al dottore Castriota ringraziandolo appunto per la sua presenza. Allora, buongiorno a tutti, condivido lo schermo. Vedete? Si vede? Sì, sì. Perfetto. Perfetto. Allora, intanto devo dire che il collega Marco Cionti praticamente ha anticipato molte delle cose che avrei detto, quindi mi risparmierò un po' di slide. A partire appunto dalla definizione della specie aliena, aggiungo qualcosina che magari non è stata detta, e cioè che inizialmente quando si è iniziato a parlare di specie aliene, venivano considerate come specie aliene anche quelle provenienti dall'Atlantico per immigrazione naturale, cioè per moto proprio, specie che entravano in Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra e quindi l'elenco delle specie aliene era molto più lungo rispetto a quello che abbiamo oggi. C'è stata quindi la necessità di categorizzare le specie a un certo punto e quindi decidere quali considerare aliene anche a fini gestionali. Qui vedete tre esempi di specie aliene che ha già fatto vedere Marco, in più c'è il pesce coniglio che è un pesce proveniente dal Mar Rosso e che ha colonizzato i nostri mari. Come arrivano le specie aliene è stato anche già detto, vi dico che ho pescato quest'immagine da un vecchio progetto di ricerca che abbiamo condotto qui all'Isbra che fa vedere le specie aliene come dei mostri, delle specie che incutono timore, specie cattive. Adesso c'è un po' un ritorno a considerare le specie aliene anche da un punto di vista positivo, almeno per quello che riguarda i servizi ecosistemici. E infatti per alcune specie ad esempio, alcune specie sono di interesse per esempio per i subacquei, vediamo ad esempio il pesce scorpione, anche se poi possono avere degli impatti sull'ambiente, sugli ecosistemi. Per cui si sta un po' rivalutando la funzione delle specie aliene. Se pensiamo ad esempio al bacino del Levante dove c'è stata un'ampia immigrazione di specie dal Mar Rosso che addirittura hanno sostituito le specie autoctone e questi segnali sono evidenti nella pesca di queste specie. Oggi si pescano, la metà delle specie pescate sono di origine eritrea, quindi insomma c'è stato un profondo cambiamento e c'è quindi la tendenza a vedere l'ingresso delle specie aliene come sostituto nella biodiversità delle specie autoctone. quindi diciamo la biodiversità che è il numero di specie in realtà poi non cambia perché vengono meno alcune specie autoctone e vengono sostituite da quelle non indigene. Come arrivano le specie aliene l'abbiamo già detto, le modalità principali sono i corridoi, i traffici marittimi, l'acquacoltura e l'acquariologia che ora vediamo più nel dettaglio. Per corridoi si intendono ovviamente quei canali che sono stati creati dall'uomo, quindi in realtà mentre appunto come dicevo prima, mentre precedentemente erano considerate anche le specie provenienti dallo stretto di Gibilterra, attualmente i corridoi riguardano soltanto il canale di Suez che ora ha duplicato anche la sua apertura verso il Mediterraneo, da cui sono entrate la maggior parte delle specie e da cui è iniziato il problema delle specie non indigene. Mentre invece le specie provenienti dall'Atlantico, quindi per immigrazione spontanea attraverso lo stretto di Gibilterra, attualmente vengono classificate come specie in espansione di areale e più precisamente come specie neonative nel caso in cui queste specie entrano in seguito a modifiche ambientali di cui è imparzialmente responsabile anche l'uomo, quindi ad esempio i cambiamenti climatici. Abbiamo un esempio di specie provenienti dall'Atlantico con la seriola fasciata, che è una specie, non so se riuscite a vedere il grafico sotto in basso, si può vedere che dal momento in cui è entrata piano piano ha colonizzato, ha cominciato a colonizzare prima il Mediterraneo occidentale, poi si è spostata verso lo stretto di Sicilia e infine è arrivata anche al bacino del Levante in cui ha stabilito delle popolazioni stabili. Questo è anche dovuto al fatto che l'uomo utilizza dei metodi di pesca per la pesca delle lampughe, utilizza i cannizzi e i cannizzi vengono utilizzati dai giovanili della ricciola fasciata e quindi si pensa che siano anche responsabili di una maggiore espansione di questa specie in Mediterraneo. Mentre per le elesepsiane abbiamo già capito che dal Mar Rosso, nel momento in cui è stato aperto il canale di Suez alla fine dell'Ottocento, c'è stato poi questo ingresso quando la salinità del canale è diminuita e quindi non costituiva più una barriera per le specie, c'è stato questo ingresso di specie progressivo e oggi è uno dei fenomeni più eclatanti delle introduzioni di specie aliene. Un esempio di specie lessepsiana è il Portunso, un granchio blu che è diverso da quello che ha colonizzato l'Adriatico e che sta provocando un po' di problemi in Adriatico. Questo è proprio un granchio blu marino, esclusivamente marino, che proviene dal Mar Rosso e che anche lui, se guardate il grafico riportato in alto, ha colonizzato la parte orientale, più orientale del bacino del Levante e poi mano a mano è diventato sempre più invasivo fino ad arrivare ai nostri mari. Attualmente è fermo allo stretto di Sicilia, Mar Ionio e si sono rilevate delle segnalazioni anche in Adriatico. Qui mi soffermo poco perché, ha già detto tutto il collega, praticamente le specie aliene entrano sia per introduzione volontaria che involontaria. Introduzione volontaria quando noi mettiamo una specie a scopo di allevamento, ad esempio la vongola filippina che da noi ha provocato anche degli impatti sulle specie autottone, sulla tapese degussata. Idem l'acquariologia, quindi specie che vengono introdotte volutamente o che scappano da acquari, come è stato il caso della caulerpa, come si pensa che sia stato il caso. E poi l'introduzione di esche vive, quindi di organismi che provengono da altri mari che vengono utilizzati come esche vive e che riescono a riprodursi, a fuggire dal lamo e a riprodursi poi formando popolazioni stabili. Mentre invece l'introduzione involontaria riguarda tutti quei meccanismi, quei vettori che trasportano organismi alieni inconsapevolmente. Quindi noi, ad esempio, attraverso la movimentazione dei lotti vengono trasferite anche delle specie associate alle specie di acquacoltura che possono anche essere specie autottone, come ad esempio le cozze, i mitili. Nelle mitilaie si forma un ambiente che può ospitare le specie non indigene. Per cui nella traslocazione dei lotti queste specie vengono trasportate e quindi colonizzano nuove aree. Idem, dicasi, per il fouling che può contenere specie non indigene e il traffico marittimo attraverso le ballast waters può scaricare larve e organismi in nuove acque, quindi dare luogo alla costituzione di nuove popolazioni di specie non indigene. Allora, qual è la situazione in Mediterraneo? Questi sono dati tratti da un ultimo lavoro, questi dati che noi raccogliamo con la strategia marina di solito poi tendiamo a fare dei lavori cumulativi in collaborazione anche con gli stati, con i paesi membri sia dell'Unione Europea e sia del Mediterraneo perché in concomitanza portiamo avanti anche i monitoraggi con i paesi del Mediterraneo. Quindi questi sono dati che arrivano, l'elaborazione arriva al dicembre del 2020, quindi insomma abbastanza recenti. l'Italia si classifica al terzo posto per numero di specie, numero di specie non indigene più altre due categorie che di solito non vengono considerate nella valutazione per la strategia marina, che però vengono comunque segnalate perché potrebbero in futuro rivelarsi specie non indigene. Allora, sto parlando delle specie criptogeniche che sono quelle specie di cui non conosciamo l'origine, quindi non sappiamo se sono state introdotte ad opera dell'uomo oppure se sono arrivate in Mediterraneo per conto loro o tramite le correnti. E delle specie dubbie, che sono di dubbia collocazione, che possono anche... dubbia collocazione perché possono avere dei problemi di tassonomia ad esempio, cioè non è chiara la tassonomia e quindi hanno bisogno di ulteriori investigazioni per poter essere classificate in una categoria. Sotto è riportata anche la tabella dei gruppi che rappresentano maggiormente... in cui le specie non indigene sono rappresentate maggiormente. Come potete vedere, i gruppi sono molti, e quindi stiamo parlando di un fenomeno che è abbastanza... abbastanza, insomma... non viene la parola, comunque insomma molto sviluppato, che coinvolge molti gruppi di organismi, sia vegetali che animali. Addirittura le microfite sono tra i gruppi più rappresentati vegetali. Mentre invece nel grafico a destra vedete la situazione dei vari vettori e pathway attraverso cui entrano le specie non indigene nei nostri mari. Potete vedere che per esempio nel bacino del Levante, questa è la situazione in Mediterraneo, vengono riportate le quattro sottoregioni principali. Nel Mediterraneo orientale vedete che la maggior parte delle introduzioni sono relative alle specie lessepsiane, quindi le introduzioni tramite corridoi. Mentre invece spostandoci poi verso il Mediterraneo occidentale, vediamo che i trattici marittimi assumano la maggiore importanza, anche perché la valutazione delle specie lessepsiane si ferma poi al bacino orientale, poiché trasferendosi in altri mari vengono classificate nella categoria delle unaided, cioè della dispersione naturale in pratica. Mentre nei mari del bacino del Levante la loro introduzione è dovuta proprio all'immigrazione attraverso il canale, da lì poi loro si spostano attraverso le correnti o comunque per moto proprio in altri mari e quindi non vengono considerate come nella valutazione. Quindi da questo grafico potete vedere anche l'impatto che ha l'acquacoltura, quindi l'acquacoltura corridoi tra affici marittimi è un impatto minore quello dell'acquariologia. Allora, ad oggi nei mari italiani vengono registrate 309 specie non indigene, 128 criptogeniche e 71 di dubbia collocazione. Quindi la valutazione viene fatta esclusivamente sulle specie non indigene. La situazione dal 1800 potete vedere che è molto lenta nei secoli precedenti mentre poi comincia ad aumentare intorno agli anni 50-70 per avere poi un'escalation dal 70 in poi di cui vedete la riproduzione qui. Le tre linee sono le tre sottoregioni italiane per la strategia marina che sono la blu, il Mediterraneo occidentale, la rossa, lo ionio e il Mediterraneo centrale e la grigia e l'atriatico. Le tre linee vanno più o meno di pari passo, c'è stato un aumento maggiore nel Mediterraneo occidentale ma poi alla fine negli ultimi anni, come vedete, la situazione è simile nelle tre sottoregioni. Entriamo nella definizione del descrittore quindi come diceva il collega Marco il descrittore dice questo le specie non indigene introdotte da attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. Il buono stato ecologico, quindi il GES che è stato stabilito per questo descrittore è la riduzione al minimo del numero di specie non indigene di nuova introduzione in aree associate ai principali vettori di introduzione. È importante specificare questo perché le specie, appunto, come abbiamo visto i luoghi dove le specie non indigene possono costituire un pericolo per una futura dispersione sono proprio i porti e gli impianti di acquacoltura per cui sono queste le aree associate ai principali vettori di introduzione. dal 2014 nell'ambito appunto della strategia marina sono iniziati i monitoraggi iniziato proprio il primo ciclo di monitoraggio e quindi l'Italia ha avviato queste campagne nelle aree a maggior rischio di introduzione e nel primo ciclo in realtà era stata considerata anche una anche la possibilità di monitorare le aree marine protette però poi alla fine in realtà il monitoraggio è stato effettuato soltanto in un'area marina protetta che era nella sottoregione dell'Ionio e Mediterraneo centrale e quindi poi si è deciso di nei futuri nei futuri piani di monitoraggio si è deciso di considerare soltanto le aree portuali e gli impianti di acquacoltura i criteri anche questi sono già stati anticipati dal collega Marco quindi deve essere ridotto al minimo e se possibile a zero il numero di specie non indigene di nuova introduzione questo adesso poi vedremo come come valutare questa questa riduzione perché anche qui sono stati fatti numerosi e numerose discussioni in particolare occorre che gli stati membri decidano un valore soglia che definisca appunto il limite oltre il quale non si è più dal GESS nel buono stato ecologico questo è il criterio primario cioè quello obbligatorio che tutti gli stati conseguono poi ci sono altri due criteri che possono essere considerati nella valutazione del buono stato ecologico che sono l'abbondanza e la distribuzione spaziale delle specie in particolare di quelle invasive visto che sono quelle che determinano i maggiori problemi all'ecosistema e l'impatto che queste specie hanno sull'ecosistema l'Italia in questo ciclo di monitoraggio non ha considerato questi due questi due criteri sebbene stiamo anche procedendo con dei monitoraggi che riguardano proprio l'abbondanza e l'impatto e quindi è possibile che nei futuri cicli verranno inseriti anche questi due verranno conseguiti anche questi due criteri e quali sono i siti monitorati allora abbiamo già detto questo è quello che viene riportato nella scheda metodologica quindi porti italiani di categoria 2 classe 1 che sono i porti di rilevanza economica internazionale e specialmente nelle zone di attracco dove avviene il carico e scarico delle merci e in zone di scarico delle acque di Zavorra vengono scelte due stazioni in ogni porto negli impianti di acquacoltura vengono scelti due impianti per sottoregione e in ogni impianto vengono scelte due stazioni qui possiamo vedere lo sforzo di campionamento vengono riportati gli anni in cui sono stati effettuati i monitoraggi come sapete per alcuni porti è stata fatta la sostituzione ad esempio a Gela inizialmente veniva effettuato il monitoraggio lungo un pontile che però era esterno al porto per cui poi si è deciso di sostituire questo sito con il porto di Catania per cui alcuni porti hanno un monitoraggio più recente i monitoraggi vengono condotti dalle ARPA questo è importante dirlo perché le ARPA sono le deputate sia all'attuazione del monitoraggio che alla classificazione delle specie per cui sono loro che si occupano di queste fasi per il ciclo attuale naturalmente è stato deciso anche questo concordato tra i vari paesi membri questo perché inizialmente c'era stato un disallineamento nella scelta dei periodi ogni stato ha scelto dei periodi di sei anni diversi per cui alla fine si è sentita l'esigenza di uniformare questo periodo di monitoraggio per cui è stato deciso è stato concordato un monitoraggio del secondo ciclo che parte dal 2016 e finisce al 2021 mentre il monitoraggio precedente copriva il periodo 2012-2017 per cui alcuni dati si accavallano abbiamo un accavallamento nel 2016-2017 queste sono le aree che sono interessate al ciclo attuale di monitoraggio come vedete tutte le sottoregioni sono ampiamente adesso non è che non vi soffermate sui numeri perché era solo per farvi vedere che le sottoregioni sono abbastanza rappresentate quindi abbiamo diversi siti di campionamento e di monitoraggio e le componenti principali investigate sono il fitoplancton il mesozooplancton e il bentos e poi attualmente è stato aggiunto anche il microzooplancton attraverso censimenti visivi quindi anche questa è un diciamo un approccio per la valutazione di quelle di quelle grosse di quei grossi organismi che magari non vengono non possono essere presi con i monitoraggi classici queste sono queste sono le aree investigate in questo ciclo di monitoraggio quindi vediamo che in Adriatico vi sono sette aree portuali e due impianti di miti di coltura nel Mediterraneo centrale e Ionio abbiamo tre aree portuali un impianto di miti di coltura e un'area marina protetta e nel western Mediterraneo e nel Mediterraneo occidentale otto aree portuali un'area di raffineria che era nel precedente ciclo di monitoraggio quindi il monitoraggio che si accavalla e due impianti di miti di coltura e uno di acquacoltura anche questo di acquacoltura del precedente ciclo di monitoraggio le varie componenti vengono vengono monitorate con i metodi classici quindi per il fitoplancton viene utilizzata una bottiglia Niskin a 0,5 metri di profondità per il retino sempre per il fitoplancton viene utilizzato anche un retino e viene fatta una retinata verticale e questi due campionamenti vengono effettuati ogni due mesi per il microzoplancton abbiamo appena detto rilevamento visivo in superficie per il macrobentos abbiamo la benna per i fondi mobili per gli organismi di fondi mobili il grattaggio viene utilizzato sui fondali duri quindi artificiali o naturali e recentemente abbiamo introdotto quest'altra attività pilota che riguarda i pannelli che vedete qui in basso a destra perché ci siamo resi conto che con i monitoraggi classici c'era una componente microalgale poco rappresentata per cui abbiamo introdotto questa nuova attività pilota per valutare se se appunto recluta gli organismi vegetali inoltre sempre nel sempre recentemente è stata avviata anche un'attività di monitoraggio con le nasse per l'epimegabentos vagile e questa viene effettuata due volte l'anno infine l'environmental dna di cui parlerà poi la mia collega che è anche questa è stata introdotta di recente e poi la mia collega vi dirà i risultati questo è lo sforzo di campionamento per quanto riguarda il ventos insomma come potete vedere insomma il ventos è abbastanza rappresentato vado vado avanti cominciamo con con i primi risultati che riguardano il numero di specie di interesse rilevate nei monitoraggi allora come dicevo prima ci sono oltre alle non indigene noi rileviamo anche le specie criptogeniche e le specie dubbie quindi qui potete vedere i risultati di queste tre componenti sommate insieme vediamo che nel fitoplancton la situazione si attesta sulla decina di specie in ogni in ogni sottoregione e in ogni anno per il mesozooplancton il numero di specie è ancora minore mentre invece è molto rappresentato il ventos per cui questo diciamo è una componente che forse merita una maggiore attenzione quindi su cui poi nei prossimi cicli dovremo magari fare degli approfondimenti e sulla destra viene riportata la tabella invece delle specie soltanto non indigene questo per farvi vedere che per il fitoplancton ad esempio le specie non indigene rilevate sono soltanto due e non sempre e questo perché nel perché si fa fatica a categorizzare il fitoplancton nelle nella categoria delle specie non indigene perché appunto non si ha conoscenza della loro origine per cui la maggior parte delle specie fitoplanctoniche viene categorizzata come criptogenica le specie arriviamo quindi alle specie che sono state trovate per vedete in nero sono le specie riportate dalla letteratura perché noi oltre ai monitoraggi effettuati dalle ARPA e quindi che provengono dai campionamenti facciamo anche una ricerca bibliografica del sessegno di riferimento in cui vediamo se ci sono delle specie di specie non indigene introdotte in aree associate ai principali vettori e spesso sono più le specie trovate attraverso la letteratura attraverso l'esame della letteratura che quelle con i monitoraggi qui possiamo vedere quindi le specie nere sono quelle della letteratura le specie in rosso sono quelle trovate con i monitoraggi e in asterisco vengono riportate le specie che sono trovate sempre nelle sottoregioni di interesse che erano presenti già precedentemente al sessegno di riferimento facendo un approfondimento sulle specie trovate con i monitoraggi possiamo vedere che principalmente si tratta di specie appartenenti al ventos e che vengono trovate con i grattaggi la maggior parte e con la benna quindi fondi mobili le restanti e qui viene riportato il trend delle nuove introduzioni e cioè possiamo è stato deciso è stato concordato con i paesi membri di procedere alla valutazione e quindi al confronto dei dati ottenuti dal sessegno di monitoraggio con dati precedenti allora adesso noi abbiamo uno spettro di dati che parte da fine settecento inizio ottocento per cui diciamo la 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 segnalazione delle specie non indigene nei nostri mari è molto precedente a ai momenti in cui si è approfondita si sono approfonditi i metodi di rilievo delle specie non indigene per cui si è stabilito per evitare questo bias e quindi per non considerare il minore sforzo di sforzo di campionamento degli anni precedenti di partire da una data simbolica che è quella del 1970 che come abbiamo visto prima è anche il momento in cui parte l'impennata delle specie non indigene nelle tre sottoregioni e quindi qui riportiamo il numero il trend delle specie non indigene di nuova introduzione nelle tre sottoregioni negli anni diciamo di riferimento negli anni che ci interessano per la valutazione ora naturalmente viene poi lo vedremo anche dopo viene effettuato un esame delle specie le specie vengono categorizzate e fino al 2015 il numero delle specie trovate nelle tre sottoregioni ammontava 150 nel Mediterraneo occidentale 138 nell'Oionio e 141 nel mare atriatico da queste specie poi però vengono tolte alcune specie poi vedremo perché e quindi che viene fatta una scriminatura che serve a valutare poi la reale condizione quindi valutare il GES e qui ora comincia la parte un po' più antipatica quella teorica quindi abbiamo detto che c'è un ITER che viene eseguito per la valutazione dello stato ambientale quindi abbiamo un primo step che è quello proprio della definizione delle baseline delle specie non indigene poi la caratterizzazione delle specie la selezione delle specie l'analisi sulle specie selezionate l'identificazione di periodi di riferimento utili per la valutazione l'identificazione dei valori soglia e quindi il confronto dati del sessegno con i dati precedenti le baseline vengono concordate con gli altri paesi membri anche queste con questi paesi vengono prodotte delle liste ogni paese produce la sua lista e si decide insieme la categorizzazione di queste specie quindi lo status delle specie quindi se la specie deve essere considerata come non indigena come crittogenica oppure se è da considerare come discutibile perché appunto devono essere effettuati gli approfondimenti tassonomici inoltre viene anche riportata la data di prima segnalazione questi dati vengono pubblicati regolarmente per cui sono disponibili a questo punto viene fatta la selezione delle specie per ai fini della valutazione quindi si è deciso sempre con gli altri paesi membri di non considerare per la valutazione le specie criptogeniche le specie dubbie le specie parassite perché non c'è un monitoraggio ad hoc per queste specie la maggior parte del fitoplancton ad accezione di casi specifici in cui è chiaramente dimostrato che la specie è aliena le specie non indigene arrivate per dispersione secondaria ad esempio quelle specie che sono entrate attraverso il canale di Suez e che poi arrivano nei nostri mari per conto proprio ad eccezione di casi specifici cioè ad esempio le specie che sono elencate nel regolamento 1143 quindi specie di interesse unionale che comunque sono poche sono tre o quattro quelle marine e poi le specie di espansione di areale come abbiamo visto anche queste non vengono considerate a questo punto viene fatta una volta fatta questa selezione di specie viene fatta la break point analysis questa è un'analisi che viene effettuata sulle serie storiche abbiamo appunto deciso di partire dal 1970 per decidere quali sono i periodi di riferimento da considerare per il confronto questo perché appunto c'è stato un aumento sia dello sforzo di campionamento e sia anche ad esempio dei traffici marittimi che sono aumentati nel corso di questi anni per cui analizziamo la serie storica che va dal 1970 al 2015 cioè l'ultimo anno prima del ciclo del sessegno di riferimento del sessegno di valutazione scusate del sessegno di valutazione e viene condotta con un'applicazione con R con un'analisi statistica specifica quest'analisi mette in evidenza i segmenti lungo questa serie storica che differiscono tra di loro per un qualche motivo quindi identificano dei punti di rottura tra all'interno di questa serie storica e i risultati nel nostro caso sono quelli che vedete a destra la linea verde rappresenta la media di nuove introduzioni in tutto il periodo esaminato quindi dal 70 al 2015 mentre le linee azzurre rappresentano i diversi segmenti a volte sono due a volte sono tre a seconda del numero di punti di rottura che vengono trovati dall'analisi e che riportano praticamente appunto i segmenti che dimostrano dei cambiamenti lungo la serie storica e questi sono i risultati che abbiamo ottenuto con i nostri dati allora nel Mediterraneo occidentale è stato ottenuto un solo punto di rottura nel 2002 per cui il periodo per cui questo punto di rottura identifica due periodi di riferimento così nel Mediterraneo centrale e Ionio abbiamo due punti di rottura per cui vengono identificati tre periodi di riferimento è nell'Adriatico un solo punto di rottura un solo periodo di riferimento si è scelto di considerare come periodo di riferimento quello il più recente per cui per la valutazione del GES viene considerato soltanto l'ultimo periodo riportato in questi grafici di cui viene riportato il valore medio che vedete qui per le tre sottoregioni con un intervallo di confidenza quindi questo valore medio può variare all'interno di questo intervallo di confidenza che viene stabilito sempre dall'analisi a questo punto il problema principale è la definizione del valore soglia l'identificazione del valore soglia quindi ci sono diversi approcci per valutare il valore soglia intanto deve essere un valore quindi un numero una misura quantitativa con cui poter confrontare il dato e gli approcci sono tuttora in discussione non si sa ancora se considerare come valore soglia lo stesso valore di riferimento oppure se ridurre il valore di riferimento di una percentuale che comprende che pesa i vettori gestibili quindi qui per valutare questa percentuale di riduzione occorre valutare come sono entrate le specie quindi decidere se una specie è entrata con ad esempio attraverso i traffici marittimi o tramite l'acquacoltura e questa decisione non è sempre riferibile ad un dato scientifico ma a volte viene decisa dagli stessi esperti sulla base di un giudizio esperto per cui è un dato molto discutibile volendo e quindi a questo punto noi abbiamo deciso di adottare la decisione presa dal Lunet Map quindi dal Quality Status Report in cui viene adottato come limite come valore soglia il limite inferiore vedete qui la definizione il limite inferiore dell'intervallo di confidenza associato al valore di riferimento ottenuto con la Breakpoint Analysis sulla serie storica analizzata quindi significa questo che se andiamo avanti il valore soglia dei vari periodi i periodi di riferimento li trovate qui nella seconda colonna il limite di confidenza inferiore quindi 3,09 per il Western Mediterranean 3,67 per il MIC per il Mediterraneo centrale e 3,24 per l'Adriatico a questo punto viene calcolata la media annua del periodo di valutazione quindi di specie non indigene trovate nel periodo di valutazione e anche a questa media vengono calcolati degli intervalli di confidenza e il valore che sarà confrontato con il valore soglia è il limite superiore dell'intervallo di confidenza per cui nel caso del Mediterraneo occidentale è 4,56 8,63 e 7,17 come potete vedere facendo il confronto quindi tra il valore trovato del sessegno e il valore soglia il GES non è stato raggiunto in nessuna delle tre sottoregioni quindi questo è ringrazio naturalmente io ho terminato qui ringrazio anche i miei collaboratori intanto il coordinatore delle scrittorie 2 referente delle scrittorie 2 delle specie aliene con me Silvia Livi che ora parlerà del DNA e poi i colleghi che hanno contribuito alla categorizzazione delle specie Fabio Bertasi Pietro Vivona per la gestione del database e per le elaborazioni dei dati e realizzazione cartografica Simona Buscemi e Carlo Massaccesi per le elaborazioni statistiche e Manuela Falautano per il supporto contivo che ci ha dato ho terminato due domande la prima probabilmente lei la legge però magari la do su domande e risposte la leggo così magari possono ascoltarla e poi magari inviterei colui o con lei che ha fatto la domanda a potersi identificare perché mi risulta spettatore anonimo la domanda la prima è questa non credete che considerare le specie aliene sostituti della biodiversità rappresenti una pericolosa apertura al concetto che bisogna renderessi e sorridere al loro arrivo la biodiversità non corrisponde semplicisticamente alla ricchezza di specie siete sicuri che ruoli e funzioni ecologiche tipiche del Mediterraneo possano essere svolte da comunità all'octone le lascio la parola intanto dottore poi leggiamo la seconda prego no no ma infatti non è allora questa era una specifica che io ho detto per dire che alcuni ricercatori stanno valutando la possibilità cioè non valutando la possibilità stanno considerando le specie non indigene come nuovi elementi costituenti la nuova biodiversità ecco forse mi sono spiegato male ma non che queste vengano considerate nella valutazione dello stato ecologico perché è ancora tutto da studiare da investigare cioè è semplicemente stato osservato che le specie entrate dal Mar Rosso sono sono diventate molto abbondanti e in alcuni casi hanno sostituito le specie autoctone come ad esempio alcune triglie del Mar Rosso che prima non erano presenti quindi nei nostri mari quando sono entrate nel bacino del Levante hanno determinato una riduzione drastica delle specie autoctone di triglia per cui adesso si pesca di più la triglia non indigena che quella autoctona e se si arriverà all'estinzione locale cosa che è improbabile perché magari la specie autoctona trova altre nicchie come è successo per la triglia che hanno scelto altre profondità e quindi magari non vengono pescate per questo ma continuano ad esserci però attualmente il numero delle specie trovate nel bacino del Levante è aumentato grazie a questa introduzione ma non che questo sia mi guardo bene da dire una cosa del genere altrimenti non esisterebbe la strategia marina non insomma era semplicemente per dire che quello a questo appunto non grazie del chiarimento passo alla seconda domanda un passaggio del dottor Castriota mi è sfuggito le specie aliene le sepsiane che poi si espandono naturalmente ad esempio nel Mediterraneo occidentale non vengono più considerate dall'octone la specie può essere all'octone in Turchia ma non in Spagna se c'è non vengono considerate nella valutazione cioè nella valutazione del Gess le specie le sepsiane allora la specie entra entra in Mediterraneo e colonizza il bacino del Levante poi c'è una fase in cui questa specie stabilizza la sua popolazione e poi comincia a solitamente comincia a colonizzare nuovi ambienti e quindi a disperdersi nel Mediterraneo quindi le specie che sono arrivate da noi per esempio il pesce flauto che sarebbe la fistulare con Mersoni o altre specie ad esempio adesso abbiamo il pesce scorpione che sono entrate attraverso il canale di Suez e ora si sono spostate da sole verso i nostri mari queste non vengono considerate nella valutazione ma sono sempre specie all'octone sono sempre considerate specie non indigene grazie dei chiarimenti passiamo all'intervento successivo ringrazio il dottore Castriota per la disponibilità e per l'interessante intervento cedo la parola alla dottoressa Silvia Livi ricercatrice Ispra che ci fa un intervento sulla presentazione del protocollo di metalbarcoding del DNA ambientale per il rilevamento di specie non indigene e l'analisi della biodiversità prego dottoressa le cedo la parola buongiorno tutti mi sentite? perfetto e si vede anche la condivisione però aspettate un attimo perché no allora ok posso un attimo questa barra dunque buongiorno a tutti io sono Silvia Livi e insieme a Luca Castriota referente per il descrittore in Ispra per tutte le attività che si svolgono in Ispra per il descrittore 2 e dunque oggi nella mia presentazione vi presenterò vi parlerò del protocollo di metabarcoding del DNA ambientale che è stato messo a punto nell'ambito dei monitoraggi per il descrittore 2 da Ispra con la collaborazione dell'Università Politecnica di Ancona per il rilevamento delle specie non indigene non mi funziona ah ecco dunque intanto che cosa si intende con il termine metabarcoding per metabarcoding intendiamo una metodologia di sequenziamento cosiddetta next generation sequencing applicata al sequenziamento di frammenti nucleotidici ossia frammenti di DNA denominate sequenze barcoding che come si può dedurre intuitivamente sono delle sequenze presenti in tutti gli organismi viventi informative del gruppo tassonomico di appartenenza questa metodologia è stata molto un po' un punto di cioè una grande rivoluzione nell'ambito della biologia molecolare basti pensare che con prima del next generation sequencing che si poteva adottare solo il metodo Sanger in cui il sequenziamento si poteva fare solo per un unico frammento per reazione quindi ogni ogni sequenza ogni reazione poteva fare un singolo frammento per volta mentre con questa tecnica o questa tecnologia in un unico cappione possiamo avere frammenti diversi che vengono sequenziati simultaneamente per quanto riguarda il dna ambientale io purtroppo ho lo schermo occupato dalla parte laterale non so se riesco a chiuderla ah ecco perfetto scusate per quanto riguarda il dna ambientale si intende l'insieme delle molecole di dna disperso nell'ambiente sia acquatico che terrestre e atmosferico che viene rilasciato da tutti gli organismi che vivono in quell'ambiente o transitano sono transitati in quell'ambiente tramite cellule dell'epidermide feci muco gameti o anche parti morte dell'organismo questa questo diciamo l'utilizzo del dna ambientale risale prima prima esperienza fu fatta da Ficetola proprio in Italia e oggi si è diffuso insomma enormemente in quanto presenta degli enormi vantaggi che poi vedremo allora in questa diapositiva sono sintetizzate le principali applicazioni dell'utilizzo del dna ambientale per studiare la biodiversità applicazioni che si sono ormai abbastanza consolidate nella prima abbiamo la possibilità di rilevare delle singole specie quindi quello che viene definito single species detection nella seconda invece abbiamo la possibilità di rilevare più specie in un unico campione che è quello diciamo che è stato fatto nello studio di cui parleremo oggi allora si parte da molto brevemente si parte da un campione ambientale quindi di matrice non biologica nel caso dell'ambiente marino quindi partiamo da un campione d'acqua e sedimento l'acqua viene filtrata con filtri in grado di trattenere le molecole di dna il filtro e il sedimento dal quale vengono poi utilizzati per estrarre il dna con dei kit appositi questo dna nel primo caso ossia nella single species detection prevede un un lavoro più importante a monte che è quello di sviluppare dei primers specie specifici ossia sono delle brevi sequenze nucleotidiche che riconoscono in maniera complementare l'inizio e la fine di un segmento cosiddetto segmento frammento barcoding e riconoscono questo frammento di una singola specie quindi devono essere diciamo dei primers che prevedono una serie di prove anche per escludere tutte le specie congeneriche che possono essere diamplificate e una volta messi a punto questi primers il lavoro a valle è molto più semplice perché già l'amplificazione stessa ci dà l'informazione che è presente il DNA di quella specie con questa metodica inoltre noi possiamo anche tramite dei metodi di amplificazione un po' più avanzati valutare la quantità di queste il numero di copie di questi frammenti e quindi anche metterlo in relazione all'abbondanza sempre in modo relativo nel secondo processo invece il lavoro più grosso è un po' a valle ossia dopo l'amplificazione per amplificare il nostro campione utilizzeremo dei primers cosiddetti universali quindi che sono stati sviluppati e che riconoscono invece delle regioni molto conservate all'interno dei gruppi tassonomici e quindi possono amplificare più gruppi tassonomici chiaramente noi la copertura che vogliamo raggiungere dipende da quanti primers utilizziamo perché uno dei più noti ad esempio l'ocidocromo ossidasi per il DNA mitocondriale il gene dell'ocidocromo ossidasi ha una buonissima copertura per tutti i metazoi ma non ad esempio per le piante o per il fitoplancton dove verranno utilizzati altri altri primers universali una volta amplificato il tutto viene sequenziato con il next generation sequencing e queste enorme quantità di sequenze vengono poi analizzate con dei pacchetti bioinformatici ormai ce ne sono diversi che possono essere usati che ordinano tutte queste sequenze eliminano quelle diciamo non buone fanno una selezione e arrivano a delle amplicon sequence variance ossia delle sequenze uniche le quali corrispondono appunto alle nostre ipotetiche specie tutte queste amplicon sequence variance vengono immesse nei reference database che è diciamo il nostro punto un po' limite di tutta la tecnica perché nel senso che possiamo avere l'assegnazione tassonomica solo delle specie che sono presenti nel reference database per le specie che non sono presenti nel reference database avremo un'assegnazione che è a un livello tassonomico diverso quindi famiglia ordine e così via a seconda di quanta è ricca diciamo la completezza del gruppo nel reference database una volta fatta l'assegnazione quindi abbiamo questo rilevamento multispecies detection metabarcoding questo è la tutto diciamo il processo quindi nel triennio 2021 2023 è stata svolta questa attività pilota con l'intento di standardizzare una metodologia per identificare la presenza di sequenze geniche appartenenti a NIS quindi a specie non indigene e poi confrontarle con i risultati ottenuti invece dall'approccio tradizionale cioè il metodo di monitoraggio che viene fatto normalmente dalle agenzie quindi con il riconoscimento morfologico dunque abbiamo iniziato con una con un pre-campionamento insomma un campionamento preliminare l'abbiamo chiamato nel 2021 nel porto di Trieste dove sono stati messi a punto alcuni elementi per poi trasferire un protocollo agli operatori delle agenzie che dovevano appunto insieme a Dispra fare campionamenti nel 2022 quindi sono state provate più tipologie di filtri e più volumi per quanto riguarda volumi il volume i due litri di acqua su filtri di MCE di membrana in essere cellulosa è risultato un po' il giusto compromesso perché chiaramente è vero che più litri d'acqua si filtrano e più DNA troviamo ma dobbiamo trovare un giusto rapporto tra i tempi di analisi e la quantità di risultati che otteniamo una volta messo a punto il protocollo quindi si è attivato si sono stati fatti campionamenti nel 2022 organizzati nelle stesse stazioni in cui vengono normalmente fatti i campionamenti dalle arpa per il riconoscimento morfologico sono stati scelti tre tre aree portuali ognuna in una sottoregione diversa e per ogni stazione sono state raccolte due repliche indipendenti di acqua di superficie e acqua di fondo mentre il sedimento sono state fatte tre repliche attraverso calate indipendenti ed è stato raccolta la parte superficiale questo è importante si deve raccogliere la parte superficiale con una falcon perché il tempo di permanenza del DNA nel sedimento varia molto dalla superficie al fondo cioè man mano che ci spostiamo verso la profondità i tempi di permanenza sono molto più lunghi quindi possiamo vedere anche delle cose che magari erano lì e non ci sono più questo è un aspetto molto importante di questa metodologia dunque questa è una sintesi di tutto il lavoro che è stato fatto prevalentemente dall'università Politecnica delle Marche e poi con con la fondazione Edmond Mac che hanno fatto invece il next generation sequencing dunque allora sono stati selezionati intanto i marcatori molecolari per avere una copertura la copertura che ci interessava una copertura estremamente ampia dal fitoplancton a tutti gli invertebrati non abbiamo considerato le specie ittiche perché non vengono monitorate dalle arpa anche se molte specie sono state rilevate comunque perché questo marcatore COI rileva anche i pesci anche se per i pesci ci sono altri marcatori che sono ancora più informativi dunque il COI abbiamo detto molto importante per tutti i metazoi l'area BCL per le piante in generale perché è un marcatore presente nei cloroplasti e poi il 18S è un marcatore nucleare che ha anche qui un ampio spettro diciamo di rilevazione una volta fatto il sequenziamento e fatta tutta l'analisi delle sequenze e abbiamo ottenuto quindi questi ampli consequence variance che vi dicevo devono essere fatti girare nei database ecco anche qui ci sono delle difficoltà dovute alla purtroppo alla eccessiva disponibilità di database nel senso che ce ne sono diversi e quindi c'è stato un grande lavoro da parte dei colleghi di Ancona per consultare tutti tutti questi database diciamo che allora per il COI i più importanti sono NCBI e Bold anche se Midori anche sta molto sta molto prendendo piede ultimamente però tra l'altro tra questi database molte molte sequenze vengono spesso da NCBI vengono trasferite in Bold e viceversa quindi però si possono trovare delle delle sequenze esclusive in uno nell'altro comunque dopo questo passaggio nei database noi abbiamo tutte le assegnazioni tassonomiche che abbiamo filtrato in worms perché questo perché come vi dicevo il DNA ambientale ha dei tempi di permanenza variabili a volte diciamo non sono così noti per tutti gli ambienti però sappiamo ad esempio che nell'ambiente marino specialmente vicino alla costa generalmente viene indicato come un 48 ore può essere anche di più però può essere anche più esteso a seconda delle condizioni chimico-fisiche di temperatura questo che vuol dire che a volte se ci sono degli scarichi per esempio c'è un ristorante vicino oppure delle persone su un'imbarcazione che buttano magari delle cose alimentari questo può finire nel nostro DNA ambientale quindi tutto questo deve essere filtrato ed eliminato dai nostri dati per ottenere una lista di specie unicamente marine ossia compatibili con l'ambiente che stiamo esaminando una volta arrivate a queste specie oltretutto noi anche un'altra difficoltà di questo studio che non siamo purtroppo non ci possiamo accontentare di categorie superiori come le famiglie gli ordini eccetera dobbiamo arrivare al livello di specie perché quello che ci interessa è identificare le NIS quindi una volta identificate tutte le specie queste specie vengono sono state confrontate con delle liste che sono la lista delle specie indigene dei mari italiani le NIS le specie non indigene di tutto il mar mediterraneo la lista delle NIS e dei mari italiani delle varie sottoregioni e della zona di interesse poi uno sforzo in più che abbiamo fatto che non era proprio di pertinenza delle NIS ma era interessante perché sarà comunque un'attività del oddio non mi viene la parola comunque della rilevazione tempestiva delle specie l'early warning system scusate anche di vedere tra il fitoplancton le le specie le specie azardus e poi infine le criptogeniche bene questa è una slide sullo spettro tassonomico che può essere rilevato con questa metodologia e dopo l'amplificazione quindi abbiamo detto otteniamo queste ampli consequence variance e in tutto nel in questo studio quindi con queste diciamo tre campagne nel 2022 sono state rinvenute con il metabarcoding in 1486 specie tuttavia questo è solo l'1,3% di tutte le ASV individuate questo che vuol dire che molte altre sequenze sono state assegnate solo a magari a famiglia ordine e così via in questo caso non sono però state prese in considerazione come potete vedere ci sono molti gruppi ecco nel confronto che poi faremo o che abbiamo fatto con i risultati ottenuti dalle ARPA c'è chiaramente un bias dovuto al fatto che il metabarcoding vede tutto quindi anche protozoi che chiaramente le ARPA non non raccolgono insomma non non classificano quindi il bias è in questo senso c'è una potenzialità molto maggiore poi allora questi diagrammi è solo per farvi vedere che la capacità di intercettare queste specie dei marcatori a sinistra vedete il COI con il numero esclusivo di specie identificate dal COI e poi dai vari marcatori su con l'RBCL abbiamo avuto dei risultati meno importanti più che altro dovuto anche alle sequenze depositate nei database che sono il numero minore poi a destra invece ci sono i vari database questo solo per far vedere che è stato un lavoro in cui è stato importante consultare più database a volte gli autori magari si limitano a consultare solo alcuni database più più diffusi più più importanti mentre possiamo intercettare altre specie anche consultando altri database database questo invece per mostrarvi l'importanza spaziale questo per ogni porto e per ogni campagna sono riportate le specie rilevate in ogni stazione con le specie esclusive di una o l'altra stazione e le specie trovate in entrambe come potete vedere le specie esclusive sono tante quindi insomma l'importanza di avere più punti di campionamento la stessa cosa per l'acqua superficiale e l'acqua profonda spesso possono essere campionate anche tre altezze diverse quindi superficie fondo e a metà altezza ma nel caso dell'area portuale si è ritenuto sufficiente superficie e fondo perché diciamo non avevamo delle grandi profondità oh qui sono qua stiamo sempre parlando di tutta la biodiversità rilevata queste queste sono le tre campagne e il confronto dei della biodiversità rilevata con il meta barcoding e con il monitoraggio tradizionale allora intanto come vi dicevo qua c'è un bias che il meta barcoding prende anche cose che un monitoraggio non può oggettivamente ad esempio anche le stesse specie ittiche non erano oggetto di monitoraggio mentre nel meta barcoding le possiamo ritrovare quindi chiaramente ci aspettiamo un numero di specie maggiore poi c'è anche comunque un numero di specie che il monitoraggio tradizionale ha visto il monitoraggio tradizionale è in rosa per intenderci e il meta barcoding non l'ha visto ecco questo diciamo anche qua vedremo verso la fine spesso può essere dovuto a una assenza di quella sequenza nei database di riferimento e quindi non la possiamo vedere talvolta però può essere anche dovuto a una non amplificazione di quella specie quindi queste cose poi andrebbero viste nel nel dettaglio entrando invece più nel merito dei risultati questa è una diapositiva sul fitoplancton in tutto sono state rilevate 61 specie prevalentemente con il 18S e di cui 6 potenzialmente a Zardus che sono state ritrovate riportate con i monitoraggi tradizionali per quanto riguarda le NIS ne sono state identificate in tutto 31 prevalentemente nella matrice acqua e solo 6 esclusivamente nel sedimento e come potete vedere il COI è decisamente il marcatore più importante perché come anticipava prima il collega Castriota ad esempio quasi tutto il fitoplancton non è è considerato crittogenico quindi molte specie rilevate col 18S e qui non le vediamo mentre le NIS che sono prevalentemente invertebrati quindi specie bentoniche e zooplancton vengono rilevate prevalentemente con il COI allora entriamo poi sottoregione per sottoregione qui sono elencate le specie le NIS ritrovate in ogni sottoregione e facendo il confronto con tutte le NIS presenti nel Mediterraneo vediamo che alcune di queste non erano mai state viste non sono mai state ritrovate fisicamente nel Mediterraneo c'è da dire che abbiamo avuto una segnalazione proprio recente di Fallusia nigra che è un ascidiaceo d'Arpa Sicilia che è quindi un ritrovamento fisico della specie precedentemente quindi segnalato col metabarcoding questo per noi è molto interessante in queste slide anche a destra trovate l'informazione di cosa è stato trovato con il metabarcoding e cosa è stato trovato con i monitoraggi tradizionali anche qui come potete vedere c'è molta complementarietà perché molte specie che vengono trovate con il monitoraggio tradizionale non vengono intercettate dal metabarcoding e viceversa qui scorro velocemente la stessa tabella quindi qui siamo a Trieste quattro specie nuove per il Mediterraneo tra cui anche qui Fallusia nigra e poi molte che non erano mai state trovate nell'area portuale ad esempio con i monitoraggi tradizionali ma presenti nella sottoregione e così via questa è la situazione di Taranto che addirittura sono state trovate specie diverse con il metabarcoding e con i monitoraggi tradizionali bene allora fin qui abbiamo visto quali sono state le NIS trovate con il metabarcoding che erano già presenti nel Mediterraneo allora per noi chiaramente queste NIS sono quelle da tenere bene in considerazione perché sono già nel Mediterraneo quindi compatibili con l'ambiente dei mari italiani e che hanno maggiore probabilità quindi di entrare nei nostri mari poi però ci sono anche tutta una serie di specie che sono state analizzate una ad una e che non rientravano né nella lista delle NIS presenti nel Mediterraneo e nella lista delle specie autoctone dei mari italiani quindi in realtà queste sono specie potenziali introduzioni del Mar Mediterraneo e sono in tutto 328 non sono poche qui vi mostro la loro diciamo il gruppo i gruppi tassonomici di appartenenza e come utilizziamo queste specie? Beh intanto vediamo che alcune sono state campionate campionate sono state ritrovate in tutte e tre le campagne quindi forse diciamo c'è una maggiore possibilità che siano effettivamente che poi si siano magari insediate o siano sopravvissute perché non è detto molte specie arrivano e poi non sopravvivono poi c'è stato un lavoro di assegnazione dell'area della provenienza quindi dell'area geografica di origine e quindi anche qui possiamo selezionarle in base alla loro provenienza geografica e questo perché ci aspettiamo che specie che arrivano magari dall'Antartico dal mare del nord hanno poca abbiano poca probabilità di insediarsi quindi in questo modo possiamo fare anche un po' una selezione e vedere tra queste quali sono quelle che hanno una maggiore possibilità bene allora tutto questo studio diciamo ci ha portato a concludere che il metabarcoding ha delle potenzialità enormi e che comunque al momento è uno strumento che deve essere usato in maniera complementare con le analisi morfologiche questo perché vi sono ancora dei limiti che andremo qui ad elencare allora intanto vediamo i vantaggi uno dei vantaggi veramente importante è quello che non è necessario sacrificare o prelevare parti di organismi e questo per le specie oggetto di conservazione o per le specie che sono difficili possibilità da raccogliere da campionare è un aspetto molto importante poi un'analisi tassonomica ad ampio spettro come sappiamo oggi c'è una grande crisi una grande difficoltà nella diciamo di trovare esperti tassonomi per tutti i gruppi tassonomici riduzione di tempi e costi rispetto all'analisi morfologica individuazione di specie con basse abbondanze e questo è importante per le NIS specie per le recenti introduzioni perché magari ci aspettiamo che in una introduzione recente la specie sia presente con pochi individui e il rilevamento di tutti delle specie in tutte le fasi del ciclo vitale di contro alcuni limiti sono che i tempi di persistenza del DNA nell'ambiente non è sempre noto con certezza ed è molto variabile quindi non sappiamo se quello che troviamo è di quel momento o è magari passato lì insomma un po' di tempo prima questo è molto importante per i sedimenti in particolare l'incompletenza dei database è forse il limite maggiore l'analisi al momento è solo qualitativa come dicevo all'inizio della presentazione per avere un'analisi quantitativa dobbiamo lavorare sulla singola specie e questo questi limiti portano a dei possibili falsi negativi e falsi positivi quindi adesso spenderò qualche parola per diciamo sull'incompletezza dei database e su alcune analisi quantitative che sono state fatte a seguito di questo studio e che chiaramente hanno influenza su questi falsi negativi e falsi positivi questo perché un falso positivo potrebbe essere un un dna molto scarso che magari di un animale che è arrivato ma non è sopravvissuto un organismo non è sopravvissuto ritroviamo il suo dna ma non possiamo diciamo avere riscontro con diciamo non è presente l'individuo vivo ecco questo allora per quanto riguarda invece l'incompletezza dei database brevemente questi sono i principali allora concentrandoci sul COI che abbiamo visto essere un po' il marcatore di elezione per per le NIS questi questi sono i principali database di riferimento in particolare NCPI che ha tutto il materiale genetico e BOLD che ha invece proprio un materiale genetico finalizzato alla tassonomia molecolare andando a vedere ad esempio che cosa troviamo in BOLD per gli organismi dei mari italiani vediamo che ci sono delle lacune delle lacune molto molto grandi per alcuni gruppi ora magari questi dati non sono completissimi tanto perché sono un po' questa analisi risale insomma mesi fa e poi anche perché oltre a BOLD c'è NCBI che qui non è considerato ma che comunque bene o male hanno la gran parte delle sequenze in comune quindi come potete vedere le lacune sono moltissime questo che cosa richiede? richiede un lavoro di barcoding che è un'identificazione morfologica degli organismi fatta a monte da esperti tassonomi ogni singola specie deve essere sequenziata mediante sequenziamento Sanger e poi depositata nel nel database di riferimento BOLD o NCBI questo per quanto riguarda la completezza del database per quanto riguarda l'analisi invece quantitativa di cui vi parlavo è stata è stata effettuata sempre con la collaborazione sempre dall'università di Ancona su alcune specie che erano state trovate con il metabarcoding e in particolare con cinque specie di queste una quella segnalata in verde la saccarina japonica presente nel mar mediterraneo ma non presente nei mari italiani mai segnalata e altre quattro in giallo mai segnalate neanche nel mar mediterraneo quindi sarebbero nuove introduzioni per il mar mediterraneo come potete vedere in tutti i campioni in cui erano state trovate con il metabarcoding vengono anche trovate con questi primers specie specifici e riportate anche le abbondanze quindi numero di copie per nanogrammo di DNA questo è un risultato l'unica eccezione per Bogambilia Carolinensis in un campione di Taranto in cui non viene confermata ma per il resto diciamo quindi questa mi sembra una validazione molto buona quindi io qui avrei terminato la mia presentazione concludo con le attività future che verranno svolte in ISPRA sempre per il rilevamento delle NIS tramite DNA barcoding DNA ambientale scusate quindi barcoding delle specie dei mari italiani in particolare di tutte le NIS lo sviluppo di primers specie specifici per il rilevamento tempestivo di specie invasive non ancora diffuse nei mari italiani tramite analisi quantitativa con PCR real time o PCR digitale che è una metodica che è una tecnologia che è stata messa sul mercato da poco tempo fa molto accurata e poi il metabarcoding di DNA ambientale in aree esterne ai porti questo per noi sarà molto interessante perché come dicevo mentre nelle aree portuali arrivano molte cose dall'esterno quindi tramite ballast water fouling anche diciamo imbarcazioni piccole quindi c'è un'immissione di specie se vogliamo di organismi che non è detto che poi riescano ad insediarsi e che quindi vengano poi trovati effettivamente quindi diciamo la possibilità di avere un'area esterna possibilmente un'area o un'area marina protetta o un'area di interesse conservazionistico in cui l'effetto dei principali vettori non possiamo dire ridotto a zero ma insomma ridotto al minimo quindi ci consentirebbe di vedere effettivamente quali sono le specie che molto probabilmente si sono invece insediate con questo è tutto vi ringrazio dell'ascolto e in particolare gli autori collaboratori Luca Castriota Teresa Maggio Pietro Vivona Perispra Stefano Varrelli Antonio Dell'Anno l'Università Politecnica delle Marche e poi la collaborazione di Arpa Friuli Venezia Giulia Arpa Puglia e Arpa Lazio grazie a tutti grazie dottoressa abbiamo alcune domande per lei che può anche leggere su domande risposte intanto interrompo quindi la condivisione interrompo la condivisione io passo intanto alla prima domanda così passo passo le cedo la parola allora la prima è nel reference database per le DNA ci sono tutte le specie di cui parlava il dottore Castriota per l'Italia oltre 300 se ricordo bene quindi chiede se sono questa è una domanda chiede se sono no no le NIS non sono tutte presenti ma c'è una copertura dell'ottanta per cento bene passo alla domanda successiva tramite le DNA è possibile fare anche valutazioni sull'abbondanza delle specie presenti eh sì questo l'ho più o meno spiegato eh non non è possibile farlo con il metabarcoding che è la tecnica che ci permette di vedere tutte le specie presenti ma è possibile farlo con la metodologia specie specifica ossia per singola specie quindi utilizzando sempre il DNA ambientale ma andando a analizzare la quantità di una singola specie quindi tramite eh PCR realtime o PCR digitale eh quello che eh ISPRA intende fare eh ad esempio sulla rugolopteryx e e poi come altra specie è stata candidata la plosotus lineatus che è una specie ittica che adesso è nella lista delle specie di interesse unionale grazie passo alla successiva eh che cosa si intende per specie pericolose a Zardus sono le specie tossiche eh fitoplancton tossico grazie l'ultima domanda come si dimostra che le copie di mRNA appartengono a individui diversi e consentendo quindi di misurare l'abbondanza relativa di una specie e può ripetere la domanda come si dimostra che le copie di RNA credo mRNA non so se è un errore di scrittura appartengono a individui diversi e poi è consentendo quindi di misurare l'abbondanza relativa di una specie allora eh come si dimostra è un'unica domanda o sono due sono due domande ah due domande diverse allora come si dimostra perché la sequenza no però ha detto il numero di copie come si dimostra che le copie di mRNA no noi intanto non rileviamo le copie di mRNA rileviamo le copie di DNA di frammenti eh di DNA barcoding ossia sono frammenti che eh sono stati considerati eh frammenti informativi eh del gruppo tassonomico di appartenenza questo che vuol dire che per esempio mh con i frammenti che vengono ottenuti dall'amplificazione con il COI eh utilizzata per la maggior parte degli invertebrati ehm ci sono sequenze che sono tipiche di una specie cioè la sequenza è tipica di una specie e si può distinguere dalla sequenza che è di un'altra specie ok quindi diciamo le specie hanno nel corso dell'evoluzione hanno eh si differenziano il loro DNA no eh e queste queste differenze le troviamo eh diciamo in questo frammento eh sono ehm ci indicano il punto in cui eh si separa la specie da un'altra quindi questo nel senso che noi sappiamo qual è la specie perché mettiamo le sequenze nei database dove sono depositate e troviamo che c'è eh che è uguale alla sequenza appartenente a quella specie non so se ho risposto sì no la domanda poi diciamo correlata è consentendo quindi di misurare l'abbondanza relativa di una specie allora l'abbondanza però eh lo possiamo fare per singola specie quindi l'abbondanza noi la misuriamo quando amplifichiamo il DNA di una specie e lo possiamo fare con dei primers specie specifici quindi in quel caso eh il numero di copie di quei frammenti è relativo a una singola specie grazie dottoressa per l'intervento e anche per le risposte molto esaustive e passiamo a l'ultimo intervento della dottoressa Emanuela Falautano ricercatrice ISPRA eh parlando della Science e il ruolo delle aree marine protette nel rilevamento delle specie aliene cedo la parola prego dottoressa eh buongiorno non so se vedete lo schermo perfetto ok allora buongiorno eh intanto volevo ringraziare gli organizzatori per questa eh questo evento che è un'opportunità di incontro tra eh diversi e molteplici operatori che a vari livelli lavoriamo per la tutela del mare e dell'ambiente in genere allora io sono Manuela Falautano ricercatrice eh vi parlerò della Citizen Science e il ruolo delle aree marine protette nel rilevamento delle specie aviene e intanto inquadriamo la Citizen Science perché negli ultimi anni si parla sempre più a livello mediatico istituzionale scientifico della scienza dei cittadini vediamo che eh sempre i lavori scientifici eh utilizzano sempre più la Citizen Science a vari livelli e la comunità scientifica riconosce l'importanza di coinvolgere attivamente i cittadini eh la Citizen Science si basa eh ha un fondamento ci sono diverse accettature e diverse eh livelli di coinvolgimento dei cittadini ma c'è un fondamento basilare che la raccolta e il coinvolgimento è volontario eh da parte dei cittadini e su tematiche molto diverse che possono andare dalla tutela della biodiversità alla i cambiamenti climatici alla salute umana intanto la Citizen Science non nasce adesso ma già nel secolo scorso ci sono i primi esempi di scienza dei cittadini negli Stati Uniti intorno agli anni trenta ehm viene avviato un monitoraggio degli ufficenti migratori in in Giappone negli anni cinquanta vengono censite le tartarughe marine ma è a partire diciamo dagli anni duemila con l'avvento l'avvio lo sviluppo della tecnologia l'utilizzo dei dispositivi mobili pensiamo agli smartphone e ai tablet che eh e social media che agevolano sicuramente la raccolta e condivisione dei dati che eh la citizen science ha la sua diffusione affermazione massima tant'è che nel duemila e quattordici viene istituita a Berlino la European Citizen Science Association e l'anno scorso il diciassette febbraio del duemila e ventitré eh presso l'orto botanico di Roma si costituisce l'associazione nazionale Citizen Science Italia la cui sede è presso il museo di storia naturale della della Maremma e alle iniziative e alla istituzione è partecipato anche ISPRA e SNPA ed è frutto di una rete e sul territorio di iniziative esperti università associazione enti pubblici italiani il si inquadra che cos'è ha tante definizioni ma secondo me una definizione univoca è che la scienza dei cittadini è uno strumento di supporto alle istituzioni scientifiche che ovviamente non si può sostituire al lavoro e al ruolo dei ricercatori ma può essere un valido strumento a supporto del lavoro della ricerca l'obiettivo principale è quello di coinvolgere il pubblico nella ricerca scientifica perché fornisce un ampliamento delle conoscenze degli osservatori coinvolge la popolazione nella comprensione dei fenomeni e li rende partecipi via la società italiana di citizen science associazione italiana ha stilato delle linee guida con gli obiettivi per lo sviluppo della citizen science vi sono cinque obiettivi ma mi piace porre l'attenzione sul quinto obiettivo che è quello di creare un rapporto di fiducia reciproco tra i cittadini e gli enti di ricerca perché la citizen science ha un ruolo sociale molto importante che è quello attraverso l'avvicinamento tra i ricercatori e i cittadini di colmare un divario che per tanto tempo è esistito come se fossero due realtà separate la scienza gli scienziati quasi su un piedistallo e tutto il resto dei cittadini invece attraverso la citizen science questi due mondi si avvicinano e iniziano a dialogare pensate un po' che nei secoli scorsi lo scienziato era un po' lo scienziato ricco pensiamo a Darwin allo stesso Dorn che quindi si autofinanziava le ricerche o nei decenni passati c'era stata un po' la chiusura degli scienziati nei laboratori o nelle università adesso lo scienziato esce fuori va sul campo si avvicina lavora sempre più a contatto con gli operatori soprattutto tra l'altro questo avvicinamento responsabilizza i cittadini le comunità sul ruolo che possono svolgere a fianco insieme ai ricercatori per questo processo di coinvolgimento però è importante l'attività di divulgazione scientifica noi da anni siamo impegnati in questa attività tra l'altro la divulgazione scientifica l'educazione ambientale è una delle mission del nostro istituto viene fatta attraverso varie forme varie iniziative riguardo ad esempio la tematica delle pressioni antropiche che sono le specie aliene ma anche i rifiuti marini e altre attività vi sono delle giornate dedicate come la notte dei ricercatori vi sono vengono fatti dei video ad hoc delle partecipazioni a trasmissioni televisive nazionali tutte attività che cercano con un linguaggio fluibile di avvicinare sempre più il ricercatore al cittadino la scienza dei cittadini la citizen science si rivela particolarmente utile questo coinvolgimento del cittadino è strategico in ambienti che sono difficilmente controllabili e accessibili da parte della ricerca come in primis l'ambiente marino per tutta una serie di problematiche che sappiamo per il monitoraggio qual è l'accessibilità dell'ambiente legato spesso a condizioni meteomarine a personale che deve essere altamente qualificato e formato alle strumentazioni idonee per cui nel caso della specie non indigena o aliene applicare la citizen science diventa un punto di forza fortissimo in quanto avere una rete di cittadini coinvolti significa avere la capacità e la possibilità di sorvegliare aree geografiche sempre più ampie a un costo notevolmente inferiore rispetto ai monitoraggi scientifici tradizionali attenzione questo non vuol dire che la citizen science sostituisce monitoraggi tradizionali ma può essere un metodo a integrazione dei monitoraggi tradizionali e in alcuni casi un metodo rapido per ridurre il tempo necessario per rilevare una specie non indigena marina di nuova introduzione o per tracciare la dispersione di un alieno lungo tutto il territorio nazionale né un esempio le campagne di allerta che abbiamo fatto negli anni quando abbiamo avuto le prime notizie di arrivi di specie le azarbus le specie pericolose nei mari italiani faccio alcuni esempi proprio per dare perché l'esempio pratico rende l'idea della potenza che può avere la citizen science all'inizio negli anni passati credo che fosse stato il 2010 arrivò il pesce palla maculato in Tunisia siccome dalla bibliografia dalla letteratura si sa che spesso queste specie quando arrivano nei paesi trasfrontalieri africani nel giro di poco tempo li ritroviamo ad esempio a Lampedusa lungo le coste siciliane essendo il pesce palla maculato una specie tossica al consumo che il consumo delle carni può essere letale anche cotto ci siamo attivati per creare fare delle locandine da distribuire alle marinerie per allertare soprattutto i pescatori della presenza di questa specie quindi che non andava assolutamente consumata e anche per raccogliere informazioni sulla distribuzione di questa specie per cui è partita la prima campagna al pesce palla maculato e nel giro di poco tempo è arrivata la prima segnalazione grazie ai pescatori ma anche al tramite dell'aria marina protetta delle isole pelarge la stessa cosa è stata fatta per il pesce scorpione dopodiché ci siamo resi conto che per funzionare comunque le campagne di allerta alla citizen science ha bisogno di una continua campagna di informazione abbiamo rilanciato la campagna attenzione al pesce palla maculato e tossico e non va mangiato e sono arrivate altre segnalazioni da premettere che grazie a questa rete di osservatori è stato scongiurato anche l'immissione sul mercato di un esemplare di pesce palla grazie a un giornalista che ha riconosciuto un esemplare già su un mercato sul banco di un mercato credo che fosse il mercato di Molfetta fino ad arrivare all'ultima campagna attenti a Q4 che è stata lanciata nell'agosto del 2022 in collaborazione col CNR IRBIM e con la campagna Alien Fish quindi è tutta una rete di osservatori che ci ha consentito non solo di allertare i cittadini perché venivano date indicazioni sulle caratteristiche di questa specie quindi intanto come riconoscerli quelle che erano i pericoli associati a queste specie e come segnalare questa specie quindi venivano date delle pagine Facebook dei numeri telefonici attraverso i quali il cittadino poteva segnalarci la presenza di queste specie possibilmente documentate da foto o video e sono state delle campagne che sono state importantissime per noi per raccogliere dati sulla loro distribuzione e diffusione e quindi nel caso di specie pericolose questo è un esempio forte di attività di sorveglianza all'interno di un early warning system di cui ha parlato il collega del ministero e anche poc'anzi la collega Silvia Livi cos'è un early warning system è un insieme di azioni di preallarme che permettono di identificare rapidamente una potenziale minaccia e di mitigarne quindi gli impatti e i danni l'azione di cui parlavamo prima si pone all'interno della prima attività che è l'attività di rilevamento quindi l'early warning system è costituito da un'attività di rilevamento servizio di allerta comunicazione diffusione e capacità di risposta ma soffermiamoci noi su quello che ci interessa che è l'attività di rilevamento cioè tutte quelle insieme di azioni di attività che evitano il rischio di mancare un preallarme e sono le attività di monitoraggio e di sorveglianza il monitoraggio è in carico agli enti le agenzie e gli istituti di ricerca che effettuano queste attività con cadenze ben delimitate con un protocollo e in aree ben definite ad esempio i monitoraggi che vengono fatte per le direttive per la strategia marina e consentono una migliore comprensione dell'ecologia di queste specie non indigene la distribuzione e dispersione dell'aliene nonché anche di eventuali poi di avere delle risposte di identificare delle azioni di gestione da applicare a queste specie e anche come abbiamo visto di trovare specie di nuova introduzione la sorveglianza invece è l'insieme di quelle attività che è utile identificare nuovi alieni e che può essere un elemento fondamentale della prevenzione che non viene fatta con cadenza in aree ben definite ma che è in capo a quelli che possono essere le sentinelle del mare e gli operatori guidati dai ricercatori e che necessita poi dell'attività di validazione che è sempre ad opera degli esperti quindi l'attività di sorveglianza necessita poi della parte finale della validazione della specie all'interno di un sistema di early warning della prima fase del rilevamento che porta poi a una valutazione del rischio io identifico la specie quindi il ricercatore lo scienziato valida la specie l'identifica e c'è una valutazione del rischio se è una specie che implica dei rischi allora parte poi il servizio di allerta ma soffermiamoci su quella che è l'attività di sorveglianza di rilevamento che interessa la citizen science e interessa poi vedremo le aree marine protette quindi da chi è fatto questo questa attività di sorveglianza all'interno del rilevamento dell'earry warning system è fatto dalle sentinelle del mare le sentinelle del mare sono i pescatori e subacquei gli operatori delle aree marine protette e i ricercatori che poi faranno la validazione e si occuperanno anche di indirizzare queste sentinelle del mare nell'attività di sorveglianza perché? perché comunque il rilevamento delle specie aliene l'abbiamo visto noi nella nostra ventennale esperienza spesso è un evento casuale durante i monitoraggi si possono trovare assolutamente le specie aliene ma è soprattutto chi vive del mare costantemente che può rinvenire e trovare una specie aliene e l'abbiamo visto negli anni in cui lavoravamo a Lampedusa che i pescatori ci contattavano perché improvvisamente trovavano una ricciola che era molto simile alle ricciole che pescavano ma loro occhi esperto di anni e anni di pesca notavano un profilo del corpo leggermente più alto l'occhio leggermente più grande ed era realmente la ricciola entrata dall'Atlantico quindi i conoscitori esperti del mare e delle risorse del mare sono i primi possono essere le prime sentinelle del mare come pure i subacquei indirizzati dai ricercatori possono diventare i primi attori del sistema di sorveglianza su larga scala pensate a tutti i subacquei e i pescatori che abbiamo sul territorio nazionale se opportunamente coinvolti è uno strumento potentissimo ovviamente usato nel giusto modo all'interno della citizen science che abbiamo applicato e che andremo a vedere è la local ecological knowledge la conoscenza ecologica locale che è una metodologia innovativa che si basa su interviste sulla raccolta anonime di testimonianza e osservazione su fenomeni ecologici osservabili la presenza la diffusione delle specie aliene è un classico fenomeno ecologico osservabile che può essere studiato può essere monitorato attraverso la local ecological knowledge e queste interviste vengono fatte ovviamente alle componenti delle comunità locali che sono in grado di registrare queste variazioni dei fenomeni ecologici e questa come vedete è esempio di alcune delle tante pubblicazioni che aumentano sempre più e che utilizzano la local ecological knowledge in studi che riguardano soprattutto la biodiversità la pesca e la diffusione delle specie aliene allora qua vedete il diagramma di flusso delle varie fasi del sistema di raccolta dei dati tramite la LEC intanto viene individuato il fenomeno ecologico da studiare nel nostro caso sono le specie non indigene e la scelta dei dati da raccogliere quindi noi nel nostro caso volevamo raccogliere la presenza di queste specie quando da quanto erano presenti l'abbondanza quindi presenza abbondanza e diffusione di queste distribuzioni di queste specie su che fondali con che attrezzi venivano raccolti se venivano osservati se c'era documentazione fotografica la scelta dei cittadini da coinvolgere e vedremo soprattutto dopo la capacità di informare perché ovviamente prima di andare a raccogliere un dato è importante che il cittadino che vai a intervistare deve capire l'importanza e il perché deve essere attore di questa intervista quindi l'operatore il ricercatore in questo caso deve anche avere l'empatia la capacità di coinvolgere interessare e rendere complice il soggetto da intervistare e interessarlo e farlo insomma deve deve capire che la sua intervista avrà un interesse per lo scopo della ricerca poi organizzare e validare quindi già strutturare prima un database dove inserire questi questi dati e poi la condivisione e diffusione finale dei risultati vi sono ovviamente per poter funzionare la LEC soprattutto per ottenere dei dati affidabili perché ovviamente è diverso dal solito metodo scientifico di campionamento bisogna comunque a monte adottare delle strategie adeguate intanto bisogna individuare soggetti esperti noi vogliamo studiare la diffusione e presenza delle specie aliene marine quindi dobbiamo individuare i soggetti esperti che hanno esperienza nel campo specifico oggetto di studio per cui noi abbiamo individuato i pescatori professionisti e sportivi diciamo e non professionisti gli operatori subacquei che siano proprietari di diving guide o semplici subacquei con esperienza e gli operatori delle aree marine protette un altro passaggio molto importante è avere degli intermediari e chiave accreditati perché è importante non presentarsi sul posto dell'intervista senza essere prima introdotti bisogna avere il cosiddetto facilitatore perché è normale che molti degli operatori hanno una diffidenza iniziale nell'interagire con un ricercatore che arriva lì magari sorridendo ma comunque con una cartellina per appuntare i dati veniamo un po' scambiati visti come controllori con diffidenza per cui è importante avere un intermediario che ti introduce all'intervistatore organizzare degli incontri che possono essere luoghi formali in alcuni casi siamo stati abbiamo fatto le interviste direttamente nelle aree marine protette abbiamo avuto il gancio e il supporto dell'area marina protetta come è successo ad esempio al Plemirio a Lampedusa in altri posti abbiamo fatto le interviste ovviamente sempre preceduti prima dall'informazione del presidente della cooperativa per dire e siamo direttamente andati in banchina siamo saliti sulle barche con i pescatori in un clima però di tranquillità e di serenità e poi creare questo è il punto cruciale finale che speriamo poi veramente possa anche nascere come punto di riflessione da questa da questa presentazione una rete affinché la collaborazione che si è instaurata perduri nel tempo diciamo che con alcune realtà questo c'è veramente vi sono degli strumenti che noi utilizziamo nel fare la LEC intanto un questionario che è suddiviso in una parte relativa che qua insomma non abbiamo visto non ho inserito perché non era tra l'altro poco bello da vedere ma è un semplice questionario in cui abbiamo una parte di dati da raccogliere che riguarda il soggetto che intervistiamo sono questionari anonimi però ci sono delle informazioni che per noi sono utili per ricostruire soprattutto l'esperienza del pescatore l'età da quanto classi di età soprattutto da quanto tempo pratica l'attività subacquea o pesca e poi gli attrezzi che utilizza e poi tutta una parte del questionario che è relativa alle specie non indigene poi strumenti che supportano e facilitano lo scambio di informazioni che sono delle locandine con le specie che nel caso di due progetti all'interno dei quali abbiamo condotto la LEC erano delle specie visto che i progetti erano relativi all'integrità specialiene e integrità del fondo abbiamo scelto delle specie che avevano rapporti e in qualche modo interagivano con il fondale soprattutto si scelgono delle specie che sono visibili riconoscibili osservabili dagli operatori quindi delle locandine e anche dei tablet in cui mostravamo altre foto delle specie in questione ma mostravamo anche foto di specie simili indigene in maniera tale da avere un confronto perché a volte magari ci dicevano sì questa specie l'ho vista l'esempio classico può essere della triglia aliena ma mostrando poi la triglia nostrana dicevano forse è questa il pesce coniglio il siganus ribulatus che somiglia a una salpa poi magari facendola vedere quindi ci aiutavano ecco aiutavano noi e soprattutto gli operatori nel riconoscere e identificare le specie e anche una mappa della località di indagine per meglio agevolare la localizzazione delle segnalazioni quindi questo questo protocollo LEC è stato utilizzato ad esempio in due progetti di ricerca Interreg Italia Malta che il primo è stato Harmony poi Cap Senar che ha riguardato ha interessato in totale nove siti della Rete Natura 2000 in Sicilia qua vedete il primo è stato fatto all'area marina protetta Capogallo Isola Femmine la ZPS Monti Peloritani Dorsale Curcurace Antennamara Marina Protettorossetto di Messina e la ZSC Pondaria l'isola di Capopassero le isole Pelagio insomma non sto qui ad elencare le vedete erano insomma aree definite dal progetto di ricerca dove abbiamo avuto sempre la collaborazione di tutti gli operatori coinvolti ma velocemente andiamo a vedere che quello che è importante è importante far vedere che la lecca ha funzionato ha funzionato perché le strategie di cui dicevamo prima sono state messe in atto sono state messe in atto e abbiamo ottenuto 120 interviste validate perché un paio di interviste non di più credo sono state scartate in quanto ritenute non affidabili perché poi c'è sempre il filtro del ricercatore che si rende conto che dalle risposte quando noi riteniamo una risposta molto dubbia si preferisce in caso di dato dubbio annullare eliminare il dato piuttosto che tenerlo comunque 120 interviste sono state validate quindi 120 operatori il cui campione era suddiviso soprattutto costituito soprattutto da pescatori professionisti poi abbiamo avuto un totale di 24 subacquei anche pescatori ricreativi questo nelle intervistati per area i dati che abbiamo raccolto ci hanno consentito anche di fare delle delle analisi demografiche per classi di età e vediamo che il la maggior parte del degli operatori era operatori che aveva parecchia esperienza comunque operatori che avevano dal una classe di età compresa tra 41-50 e 51-60 i più anziani erano comunque pescatori e qua ci sono una serie questa i risultati dimostrati sono solo quelli del primo progetto al momento Harmony l'altro si è concluso da poco si vede come anche l'attrezzo da pesca attraverso cui sono state registrate le maggiori segnalazioni è stata la rete da posta la gilnet e questo poi ti può far fare anche le considerazioni successive sui pescatori che sono soprattutto quelli della pesca artigianale che ti forniscono il maggior numero di segnalazioni in totale attraverso l'attività LEC abbiamo ottenuto 267 segnalazioni la specie che è stata maggiormente osservata dai pescatori è stato il insomma non solo dai pescatori anche dai subacui è stata la fistularia commersoni il pesce flauto questi dati si trovano sono stati poi pubblicati insieme anche risultati che sono stati ottenuti nell'area maltese ma per far capire la validità della LEC e anche come c'è stato un connubio uno sforzo una cooperazione tra ricercatori l'attività la LEC gli operatori del mare l'area marina protetta c'è un esempio lampante che è stata quella del segnalazione del ritrovamento del granchio blu del mar rosso nell'isola di Lampedusa le indagini attraverso le interviste che avevamo fatto a Lampedusa nel maggio del 2019 ci avevano fatto registrare il granchio blu del mar rosso attenzione noi avevamo nella locandina sia il granchio il calinectes apidus il granchio dell'atlantico che sta che ha invaso il nord adriatico ma anche il granchio blu del mar rosso e facevamo vedere tutte e due i granchi perché spesso capitava che i pescatori insomma gli operatori potessero confonderlo ma insistendo continuavano a dirci no abbiamo visto questo il granchio blu del mar rosso per cui avevamo un po' la lampadina accesa con i colleghi il diving l'aveva visto più volte all'interno del porto ma purtroppo la segnalazione non era documentata parlando con la referente scientifica all'area marina dell'isola per l'agere di allora la dottoressa Visconti ci dice che anche i pescatori di Lampedusa avevano segnalato questo granchio blu ma non vi era comunque una documentazione fotografica torniamo a Lampedusa nell'ottobre e continuano a dirci che c'è questo questo granchio il caso vuole che troviamo l'esoscheletro con Luca proprio passeggiando troviamo all'interno del porto un esoscheletro di Portunus lo ricostruiamo lo prendiamo con retino lo ricostruiamo e quindi è la prova che c'è questo questo granchio sebbene è morto vuoto c'è la sera stesso lo ritroviamo quindi allertiamo il diving i pescatori vengono con noi facciamo una passeggiata e lo ritroviamo dentro il porto vivo quindi abbiamo la prima documentazione video effettuata da noi all'interno del porto l'aria marina protetta quindi allerta i pescatori e viene pescato finalmente un esemplare che viene portato all'aria marina protetta e consegnato dalla MP all'ISPRA che fa le analisi genetiche e conferma che è il portuno segnis quindi le azioni di sensibilizzazione che avevamo fatto perché avevamo detto ai pescatori e ai subacquei se lo trovate avvisate l'aria marina protetta così è stato avevano fatto sì che si era attivata una rete con fulcro l'aria marina protetta che aveva portato a un risultato proprio di avere la rete attivata poi l'esemplare che è stato confermato geneticamente successivamente questa rete di segnalazioni è perdurata con altre segnalazioni sempre tramite l'aria marina protetta che le ha puntualmente trasmesse a dispra nell'ambito dell'ultimo progetto che abbiamo fatto CAPSENAR poi abbiamo proseguito l'attività di LEC in altre aree marine protette e abbiamo anche intervistato gli operatori dell'area marine protetta che ove possibile sono venuti anche con noi a fare le interviste in alcuni casi abbiamo fatto le interviste all'interno dell'area marina protetta in un altro caso sono venuti con noi in banchina intervistando i pescatori oltre ad avere prima allertato i pescatori e sono stati anche realizzati dei raccoglitori che sono questi qua con le schede delle aree delle specie che avevamo trattato e sono stati inviate a quelle aree marine protette che hanno partecipato al progetto per lasciare loro uno strumento per poter poi eventualmente continuare loro questa attività con gli operatori locali sono stati realizzati anche dei prodotti divulgativi come un video storytelling di circa diecimila minuti studiare l'ambiente marino attraverso l'esperienza diretta di chi lo vive e cinque pillole video sempre sulle specie aliene sulla citizen science e sul ruolo che le aree marine protette possono avere come sentinelle del mare e come anello di congiunzione tra i ricercatori e i cittadini è stato anche fatto un incontro con le aree marine protette in cui si è chiesto loro quello che può essere l'esigenza per rivestire il ruolo ecco di sorveglianza nella per quanto riguarda le specie le specie non aliene quindi si è cercato questo avvicinamento tra ricerca cittadini e aree marine protette perché sicuramente hanno un ruolo fondamentale e abbiamo visto che laddove c'è una presenza di delle aree marine protette sul territorio il sistema di sorveglianza delle specie aliene le segnalazioni funzionano veramente in più nel 2021 noi realizziamo abbiamo realizzato due opuscoli a supporto degli operatori e fuitori del mare in cui ci sono delle schede di riconoscimento delle specie aliene pescabili osservabili nei mari italiani incluse quelle che sono pericolose con dei simboletti che indicano le specie urticanti molto urticanti tossiche al consumo e nel 2021 con l'isola l'area marina protetta isola di Ventotene Santo Stefano e quest'anno con l'area marina protetta di Capomilazzo ne abbiamo realizzato uno personalizzato in cui nel nostro opuscolo c'è la mail alien chiocciolesprambiente punto it per le segnalazioni invece con l'area marina protetta abbiamo fatto un opuscolo personalizzato in cui vengono inserite anche quattro pagine che descrivono l'area marina protetta di riferimento con la zona azione la descrizione e alcune foto molto belle e poi l'area marina protetta diventa il punto di riferimento della segnalazione invece che la nostra mail alien per cui in caso di avvistamento rivolgersi all'area marina protetta con il numero di telefono la mail e tutto quindi diventa il tramite tra noi e il pescatore e il cittadino e questa è stata un'esperienza molto bella che abbiamo iniziato con Ventotene e Santo Stefano e proseguita costa quest'anno aggiungendo altre otto schede con l'area marina protetta di Capomilazzo quindi in conclusione sicuramente le aree marine protette ma tutte diciamo le realtà di protezione che possono essere le riserve naturali tutti gli operatori che come dicevo all'inizio a vario titolo lavoriamo per la tutela del mare possono essere l'anello di collegamento tra i cittadini e i ricercatori nella raccolta di segnalazione di specialiene perché comunque loro sono sul territorio e quindi possono costantemente garantire il coinvolgimento e la collaborazione delle comunità locali tra l'altro nell'incontro che abbiamo fatto a dicembre con alcuni operatori dell'area e marine protette loro ci dicevano che sicuramente per alcune categorie il collaborare è per loro un senso di appartenenza al territorio e alla comunità per cui questo possono diciamo favorirlo soltanto loro che vivono nel territorio per il futuro cosa sarebbe auspicabile creare un network nazionale delle aree marine protette di sorveglianza delle specialiene e ovviamente in questo Ispra è a disposizione per tutto quello che può essere necessario insomma per creare questa rete perché solamente ecco facendo rete si può raggiungere un risultato e tutte le attività di citizen science e tutto quello che c'è dietro che non è solo il fare il questionario fare la campagna ma c'è una raccolta bibliografica enorme ci sono protocolli ci sono elaborazioni dati divulgazione è realizzato da tutto il gruppo della sezione che ringrazio particolarmente tantissimo a partire da Luca Castriota che da oltre vent'anni condivide questa alienofilia con me a Tiziana Cillari Teresa Maggio Patrizia Persia Gianfranco Scotti e Pietro Vivona ma alla realizzazione dell'attività di progetto hanno collaborato anche altri colleghi che sono Fabrizio Laimo Silvana Campagnolo e Giuseppe Crociata un grazie comunque va a tutti i cittadini scienziati i pescatori subacue gli operatori delle aree marine protette che spero diventino sempre di più e tutti i cittadini che mi auguro continuino a essere i nostri segnalatori di alieni marini e grazie a voi per l'attenzione io avrei concluso grazie dottoressa le porgo subito due domande che ci sono pervenute che potrà vedere anche lei la prima che ruolo possono avere i cittadini le mari categorie di cittadini nelle azioni di intervento rimozione cattura prego allora su questa cosa questa è una domanda molto delicata perché c'è stata posta ad esempio anche a noi per quanto riguarda proprio nello specifico il granchio blu e lì noi perché se ti capita l'animalista che ti dice ma io il granchio blu non lo voglio uccidere perché puoi dire se in base a dove può essere preso c'è il problema che il granchio blu è una specie che vive in ambiente anche cittadino nel senso in ambiente salmastro per cui ci sono i fiumi anche che percorrono le città e arrivano dove può vivere il granchio blu quindi come ti prendi la responsabilità di dire mangialo consumalo sebbene molti cittadini lo fanno questa è una diciamo una tematica su cui noi stiamo cercando di lavorare perché vorremmo fare delle linee guida proprio da distribuire ai cittadini una cosa molto importante riguardo il rinvenimento delle delle specie aliene questo sì perché sicuramente il semplice cittadino non sa come perché di certo il rilascio volontario di una specie aliena in mare non si può fare questa è una cosa sicura però come c'è capitato se io già vedo un granchio che cosa faccio mi verrebbe da dire ignoralo questa sarebbe la prima però sì è una domanda molto interessante perché vogliamo fare delle linee guida su questo grazie anche per la risposta le faccio la seconda ci sono attività di eradicazione o controllo su qualcuna delle specie di inse nei mari italiani allora la l'eradicazione è un concetto che si applica alle specie che sono di rilevanza all'interno delle liste di rilevanza unionale ed è un concetto che in realtà noi ricercatori premiamo diciamo che in mare l'eradicazione è un concetto pressoché impossibile da applicare si parla più di gestione di contenimento ci sono delle attività per quanto riguardano c'è attualmente una specie di rilevanza unionale in Italia che è stata trovata in Sicilia che è la Rugulopteryx o Camure e si sta facendo un piano di gestione di questa specie perché è talmente diffuso oramai che l'eradicazione non è più applicabile perché un'eradicazione è concepibile nel momento in cui la specie è arrivata è ancora contenuta quindi non è in numeri elevati ed è ancora in uno spazio ristretto e poi adesso per quanto riguarda il Granchiobru c'è una struttura commissariale che sta redigendo un piano di gestione nazionale che è finalizzato anche al contenimento della specie ma l'eradicazione per le specie marine è pressoché infattibile grazie dottoressa per le risposte esaustive colgo l'occasione per dirle lo dico io che sono il vicepresidente MP Plemirio ma anche la mia presidente qui che è presente Patrizia Maiorca che mi saluta ci mettiamo a disposizione per implementare questo puscolo divulgativo già fatto con MP Ventotene e Capomilazzo quindi ecco diciamo implementiamo subito diciamo questa forte collaborazione che già esiste ed è molto interessante proprio puntando su diciamo un maggiore coinvolgimento generale delle comunità locali su questo network nazionale delle aree marine protette sulla sorveglianza delle specie aliene è molto interessante anche con Federpac sicuramente si può avere un ruolo ecco di sensibilizzazione di stimolo di incubazione sicuramente di questo network perché è sicuramente un fattore di grande interesse e di grande attenzione non ci sono altre domande anzi me ne è arrivata una ora gliela faccio e poi andiamo in conclusione ci sono indicatori di inquinamento com'è la situazione? non la sentiamo per inquinamento forse si intende introduzione di queste di specie ci sono dei trend di introduzione per cui si parla di una velocità di introduzione di queste specie insomma abbastanza elevata si parla che il Mediterraneo e il mare è più invaso del mondo sia il numero di specie che di velocità di introduzione la situazione se parliamo di introduzione di specie aliene presenza di specie aliene nei mari italiani e il Mediterraneo in genere è abbastanza seria perché considerate che il Mediterraneo il mare è più trafficato considerato le dimensioni in rapporto agli altri mari del mondo il mare è più trafficato del mondo quindi la situazione è abbastanza drammatica direi quindi sì poi il cambiamento climatico non è la causa ma è un catalizzatore quindi favorisce il successo di molte specie quindi non siamo in una buona situazione grazie per la risposta non ci sono altre domande io posso tirare le conclusioni dicendo che intanto è stato un incontro anche molto seguito con oltre 50 persone fino alla fine quindi diciamo insomma abbiamo colto sicuramente l'attenzione di chi ci ha seguito incontri tutti veramente molto interessanti ringrazio ancora una volta per la disponibilità il dottore Cionti la dottoressa Rivi il dottore Castrioto la dottoressa Falautano e lancio già la data del successivo appuntamento che sarà quella del 12 dicembre sempre alle ore 10 con diciamo un focus sulla presentazione programma di misure della strategia marina ex articolo 12 del decreto legislativo 190 del 2010 aggiornamento per il secondo ciclo attuativo come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 190 del 2010 quindi il 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 grazie per essere intervenuti grazie a coloro che ci hanno seguito e diciamo il nostro impegno il nostro interesse la nostra collaborazione continua grazie a Ispra grazie al Mase grazie a Federparchi che ha voluto organizzare questo importante incontro e ci vediamo presto buona giornata grazie grazie a voi ciao a tutti per il relatore chiedo di restare un attimo no stavo uscendo